Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salao e la peggior forma di sfortuna e il ragazzo li aveva obbediti andando in un'altra barca che prese tre bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenza dugliate o la gaffa e la fioccina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne. Il vecchio era magro e scarno e aveva rughe profonde alla nuca. Sulle guance aveva le chiazze del cancro della pelle provocato dai riflessi del sole sul mare tropicale. Le chiazze scendevano lungo i due lati del viso e le mani avevano cicatrici profonde che gli erano venute trattenendo con le lenze i pesci pesanti. Ma nessuna di queste cicatrici era fresca. Erano tutte antiche come erosioni di un deserto senza pesci. Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti. «Santiago!» gli disse il ragazzo mentre risalivano la riva dal punto sul quale era stata sistemata la barca. «Potrei ritornare con te. Abbiamo guadagnato un po' di quattrini». Il vecchio aveva insegnato a pescare al ragazzo e il ragazzo gli voleva bene. «No!» disse il vecchio. «Sai su una barca che ha fortuna. Resta con loro». «Ma ricordati quella volta che sei rimasto 87 giorni senza prendere pesci e poi ne abbiamo presi di enormi tutti i giorni per tre settimane di seguito!» «Ricordo!» disse il vecchio. «Lo so che non è perché dubitavi di me che mi hai lasciato. È stato papà che mi ha costretto a lasciarti. Sono un ragazzo e devo obbedire!» «Lo so!» disse il vecchio. «È assolutamente normale. Lui non ha molta fiducia». «No!» disse il vecchio. «Ma noi sì, vero?» «Sì!» disse il vecchio. «Posso offrirti una birra alla terrazza e poi portiamo la roba a casa». «Perché no?» disse il vecchio. «Tra pescatori». Sedettero sulla terrazza e parecchi pescatori canzonarono il vecchio e lui non si offese. Altri pescatori più vecchi lo guardarono e si sentirono tristi. Ma non lo mostrarono e parlarono con garbo della corrente e a che profondità avevano gettato le lenze e del bel tempo stazionario e di ciò che avevano visto. I pescatori fortunati di quel giorno erano già rientrati e avevano già squartato i loro marlin. E li avevano trasportati distesi su due assi con due uomini barcollanti all'estremità di ogni asse al magazzino dei pesci dove aspettavano l'autocarro frigorifero che li portasse al mercato, all'Havana. Coloro che avevano preso pescicani li avevano portati allo stabilimento sull'altra riva della Baia dove li avevano issati alle carrucole per togliere il fegato, tagliare le pinne e scuogliare le pelli e ridurre la carne a strisce per metterla sotto sale. Quando il vento veniva da est dallo stabilimento giungeva l'odore attraverso il porto ma oggi lo si sentiva soltanto vagamente perché il vento era indietreggiato a nord e poi si era smorzato e sulla terrazza si stava bene e c'era il sole. «Santiago!» disse il ragazzo. «Sì!» disse il vecchio. Stava stringendo il bicchiere fra le mani e pensava a tanti anni fa. «Posso andare a cercarti le sardine per domani?» «No, vai a giocare al baseball!» «Sono ancora in grado di remare e Rogelio getterà la rete!» «Andrei volentieri!» «Se non posso pescare con te vorrei almeno esserti utile in qualche modo!» «Mi hai comprato una birra?» disse il vecchio. «Ei già un uomo!» «Quanti anni avevo la prima volta che mi hai preso sulla barca?» «Cinque!» «E a momenti venivi ucciso perché ho issato il pesce troppo presto e lui ha quasi fatto a pezzi la barca. Ricordi?» «Ricordo la coda che sbatteva e rintronava e il banco che si è spaccato e il frastuono delle mazzate!» «Ricordo che mi hai gettato a prua tra le lenze addugliate e fradice e ho sentito tutta la barca rabbrividire e il frastuono che facevi mentre lo prendevi ammazzate come quando si abbatte un albero e l'odore dolce del sangue che avevi addosso. Te lo ricordi davvero o è perché te l'ho raccontato? Ricordo tutto dalla prima volta che siamo andati insieme. Il vecchio lo guardò con gli occhi bruciati dal sole pieni di fiducia e di affetto. «Se tu fossi mio figlio ti porterai fuori a tentare» disse «ma sei figlio di tuo padre e di tua madre e hai trovato una barca fortunata. Posso procurarti le sardine? So anche dove potrai procurarti quattro esche. Mi sono avanzate quelle di oggi. Le metterò nel sale, nella scatola. Lascia che te ne dia quattro fresche». «Una», disse il vecchio. La speranza e la fiducia non l'avevano lasciato mai ma ora si rafforzavano come quando sorge il vento. «Due», disse il ragazzo. «Due», acconsentì il vecchio. «Non le hai rubate, vero?» «Avevo voglia di farlo», disse il ragazzo. «Ma queste le ho comprate». «Grazie», disse il vecchio. «Era troppo semplice per chiedersi quando avesse raggiunto l'umiltà ma sapeva di averla raggiunta e sapeva che questo non era indecoroso e non comportava la perdita del vero orgoglio». «Domani sarà una giornata buona con questa corrente», disse. «Dove andrai?», chiese il ragazzo. «A largo, per rientrare quando cambia il vento. Voglio essere fuori prima di giorno». «Cercherò di far venire anche lui a largo», disse il ragazzo. «Così, se prendi qualcosa di molto grosso, possiamo venire ad aiutarti». «Non gli piace lavorare troppo a largo». «No», disse il ragazzo, «ma vedrò qualcosa che lui non riesce a vedere, magari un gabbiano al lavoro e lo farò venire fuori, dietro a un delfino». «Ha gli occhi così mal ridotti?» «È quasi cieco». «Strano», disse il vecchio. «Non è mai andato a caccia di tartarughe?» «È questo che uccide gli occhi». «Ma tu sei andato a caccia di tartarughe per anni e anni lungo la Moschito Coast, eppure ha gli occhi buoni». «Io sono un vecchio strano». «Ma sei forte abbastanza adesso per un pesce proprio grosso?» «Credo di sì». «E ci sono molti trucchi». «Portiamo a casa la roba», disse il ragazzo. «Così posso prendere i giacchi e andare in cerca di sardine». Raccolsero l'attrezzatura della barca. Il vecchio si misera albero in spalla, e il ragazzo portò la tinozza di legno, con le brune lenze ben ritorte e addugliate, la gaffa e la fiocina con la sua asta. La tinozza con le esche era a poppa, con la mazza che serviva a domare i pesci grossi quando venivano rimorchiati. Nessuno avrebbe mai derubato il vecchio, ma era meglio portare a casa la vela e le lenze pesanti, perché la rusada poteva rovinarle, e pur essendo certo che nessuna persona del posto l'avrebbe mai derubato, il vecchio riteneva che fosse inutile lasciare in una barca una gaffa e una fiocina a far nascere tentazioni. Risalirono insieme la strada fino alla capanna del vecchio ed entrarono per la porta spalancata. Il vecchio appoggiò alla parete l'albero con la vela serrata, e il ragazzo posò accanto ad esso la tinozza e il resto dell'attrezzatura. L'albero era lungo quasi quanto l'unica stanza che costituiva la capanna. La capanna era costruita con scaglie dure di palma reale, quelle che chiamano guano, e dentro vi era un letto, una tavola, una sedia e una zona sul pavimento di terrizzo dove cucinare con la carbonella. Sulle pareti brune, fatte con le foglie piatte, sovrapposte del guano resistente e fibroso, vi era una fotografia a colori del Sacro Cuore di Gesù e un'altra della Vergine di Cobra. Erano ricordi della moglie. Una volta sulla parete c'era una fotografia sbiadita della moglie, ma il vecchio l'aveva tolta perché si sentiva troppo solo a vederla e l'aveva messa su un angolo della mensola, sotto la camicia pulita. «Che cos'hai da mangiare?» chiese il ragazzo. «Una pentola di riso giallo e pesci. Ne vuoi un po'? No, mangerò a casa. Vuoi che ti accenda il fuoco? No, lo accenderò più tardi. O magari mangio il riso freddo. Posso prendere il giacchio?» Certo. Il giacchio non c'era e il ragazzo ricordava il giorno in cui l'avevano venduto, ma recitavano questa commedia ogni giorno. Non c'erano pentole di riso giallo e pesci e anche questo il ragazzo lo sapeva. «Ottantacinque è un numero che porta fortuna», disse il vecchio. «Ti piacerebbe vedermene portare a casa uno da mezza tonnellata?» «Ora prendo il giacchio e vado in cerca di sardine. Ti siedi al sole sulla porta?» «Sì, ho qui il giornale di ieri e voglio leggere il baseball». Il ragazzo non sapeva se anche quello del giornale di ieri fosse un'invenzione, ma il vecchio lo prese di sotto il letto. «Me l'ha dato Perico, alla bodega», spiegò. «Ritorno appena ho trovato le sardine. Le terrò sul ghiaccio insieme, le tue e le mie, e domattina ce le dividiamo». «Quando ritorno, mi racconti del baseball?» «Non è possibile che gli Yankees perdano, ma ho paura degli Indians di Cleveland». «Abbi fede negli Yankees, figlio mio». «Pensa al grande di maggio». «Ho paura dei Tigers di Detroit e degli Indians di Cleveland». «Tai attento, sennò avrai paura anche dei Ritz di Cincinnati e dei Watshock di Chicago». «Tu studia la situazione, così quando ritorno me la racconti». «Cosa ne dici di comprare un biglietto della lotteria con il numero 85?» «Domani è l'ottantacinquesimo giorno». «Perché no?» disse il ragazzo. «E' l'ottantasette del tuo grande primato». «Non può succedere due volte. Credi che riuscirai a trovare un 85?» «Posso ordinarlo?» «Un biglietto costa due dollari e mezzo». «Da chi se li potremmo far prestare?» «È facile. Io trovo sempre chi mi presta due dollari e mezzo. Forse ci riuscirai anch'io, ma cerco di non farmi prestare mai niente. Prima si chiede un prestito, poi si chiede le lemosine». «T'hai coperto, vecchio», disse il ragazzo. «Ricordati che siamo in settembre, il mese in cui arrivano i pesci grossi», disse il vecchio. «Chiunque sa fare il pescatore di maggio». «Ora vado per le sardine», disse il ragazzo. «Ricordati che siamo in settembre». Quando il ragazzo ritornò, il vecchio si era addormentato sulla sedia e il sole era calato. Il ragazzo tolse la vecchia coperta militare dal letto e la stese sull'orso della seggiola e sulle spalle del vecchio. Erano spalle strane, ancora forti per quanto molto vecchie, e anche il collo era ancora robusto e le rughe non erano molto visibili quando il vecchio dormiva e aveva la testa piegata in avanti. La camicia era stata rattoppata tante volte che pareva la vela e le toppe erano state sbiadite dal sole in numerose gradazioni. Però la testa del vecchio era molto vecchia e quando aveva gli occhi chiusi il viso era senza vita. Il giornale gli ingeceva sulle ginocchia e il peso del braccio lo tratteneva dal vento della sera. Era scalzo. Il ragazzo lo lasciò come si trovava e quando ritornò il vecchio dormiva ancora. «Svegliati, vecchio!» disse il ragazzo e gli posò la mano sul ginocchio. Il vecchio aprì gli occhi e per un attimo parve ritornare da lontano. Poi sorrise «Che cos'hai portato?» chiese «La cena!» disse il ragazzo «Ora ceniamo!» «Non ho molta fame!» «Su, vieni a mangiare!» «Non si può andare a pesca senza mangiare!» «Sì che si può!» disse il vecchio alzandosi e raccogliendo il giornale e piegandolo. Poi si mise a piegare la coperta. «Tienti la coperta addosso!» disse il ragazzo. «Non andrai a pesca senza mangiare finché sono vivo io!» «Allora vivi a lungo e riguardati!» disse il vecchio. «Che cosa si mangia?» «Riso e fagioli, banane fritte e un po' di stufato!» Il ragazzo aveva portato quella roba dalla terrazza in un portavivande di metallo a due piani. In tasca aveva le due serie di coltelli, forchette e cucchiai avvolte in tovagliolini di carta. «Chi ti ha dato questa roba?» «Martin? Il padrone?» «Bisogna che lo ringrazi!» «L'ho già ringraziato io!» disse il ragazzo. «Non c'è bisogno che lo ringrazi tu!» «Gli darò la pancia di un bel pesce!» disse il vecchio. «L'ha già fatto altre volte?» «Eh sì!» «Allora devo dargli qualcosa in più per la pancia!» «È molto cortese con noi!» «Ha mandato anche due birre!» «A me piace di più la birre nelle lattine!» «Lo so, ma questa è in bottiglia! È birra Hathaway! E devo portare indietro le bottiglie!» «È gentile da parte tua!» disse il vecchio. «Vogliamo mangiare?» «Te l'ho già chiesto!» disse il ragazzo con garbo. «Non volevo aprire il portavivande finché non eri pronto!» «Ora sono pronto!» disse il vecchio. «Devo soltanto lavarmi!» «Dove ti sei lavato?» pensò il ragazzo. «La dotazione d'acqua del villaggio era alla seconda traversa della discesa!» «Devo portargli qui dell'acqua!» pensò il ragazzo. «È un po' di sapone e un bel asciugamano!» «Perché sono così sbadato!» «Devo procurargli un'altra camicia e un giaccone per l'inverno e un paio di scarpe e un'altra coperta!» «Lo stufato è squisito!» disse il vecchio. «Parnami del baseball!» gli disse il ragazzo. «Nella Lega Americana, gli Yankees, come ho detto!» disse soddisfatto il vecchio. «Oggi hanno perduto!» disse il ragazzo. «Questo non vuol dire nulla!» «Il grande di maggio ha ritrovato se stesso!» «Ci sono altri uomini nella squadra!» «Si capisce!» «Ma tutto dipende da lui!» «Nell'altra Lega, tra Brooklyn e Philadelphia, sceglierai Brooklyn, ma poi ripenso a Dick Sisler!» «Non c'è mai stato più niente del genere!» «Colpisce le palle più lunghe che mi sia mai capitato di vedere!» «Ricordi quando veniva alla terrazza?» «Avrai voluto portarlo a pescare, ma ero troppo timido per chiederglielo!» «Allora ti ho chiesto di chiederglielo tu, ma anche tu sei stato troppo timido!» «Lo so, è stato un grande errore!» «Forse sarebbe venuto con noi!» «Così ci sarebbe rimasto questo per tutta la vita!» «Mi piacerebbe portare a pesca il grande di maggio!» disse il vecchio. «Dicono che suo padre era un pescatore!» «Forse era povero come noi e potrebbe capire!» «Il padre del grande Sisler non è mai stato povero e giocava nelle grandi leghe, lui, il padre, quando aveva la mia età!» «Io, quando avevo la tua età, mi trovavo davanti all'albero di una nave a vele quadre che andava in Africa e la sera ho visto i leoni sulle spiagge!» «Lo so, me l'hai detto!» «Dobbiamo parlare dell'Africa o del baseball?» «Del baseball!» «Dirai!» disse il ragazzo. «Dimmi, del grande John John McGraw!» almeno si portava sempre in tasca qualche elenco di cavalli e spesso diceva i nomi dei cavalli al telefono!» «Era un bravo allenatore», disse il ragazzo. «Mio padre disse che era il più bravo di tutti!» «Perché veniva sempre qui», disse il vecchio. «Se fosse stato Durocher a continuare a venire qui tutti gli anni, se fosse stato Durocher a continuare a venire qui tutti gli anni, tuo padre avrebbe pensato che era lui l'allenatore più bravo di tutti!» «Ma in realtà chi è il più bravo allenatore? Luke o Mike Gonzalez?» «Secondo me sono pari!» «E il pescatore più bravo di tutti sei tu!» «No, ne conosco di migliori!» «Che va!» disse il ragazzo. «Ci sono molti pescatori bravi e alcuni grandi!» «Ma come te ci sei soltanto tu!» «Grazie! Mi rendi felice! Spero che non mi capiti un pesce così grosso da dimostrarci che hai torto!» «Non esiste un pesce così se sei ancora forte come dici!» «Può darsi che non sia forte come credo!» disse il vecchio «Ma conosco molti trucchi e sono ostinato!» «Ora dovresti andartene a letto in modo da essere fresco domattina!» «Riporterò io la roba alla terrazza!» «Allora buonanotte!» «Domattina vengo a svegliarti!» «Tu sei la mia sveglia!» disse il ragazzo. «La mia sveglia è l'età!» disse il vecchio. «Perché i vecchi si svegliano così presto!» «Sarà perché la giornata duri più a lungo?» «Non lo so!» disse il ragazzo. «So soltanto che i ragazzi dormono fino a tardi e sodo!» «Mi ricordo!» disse il vecchio. «Ti sveglierò a tempo!» «Non mi piace che sia lui a svegliarmi!» «È come se fossi meno di lui!» «Lo so!» «Darmi bene, vecchio!» Il ragazzo uscì. Avevano mangiato senza luce sulla tavola e il vecchio si tolse i calzoni e andò a letto al buio. Arrotolò i calzoni per farsi il guanciale mettendovi dentro il giornale. Si arrotolò nella coperta e dormì sugli altri giornali vecchi che coprivano le molle del letto. Si addormentò presto e sognò l'Africa quando era ragazzo e le lunghe spiagge dorate e le spiagge bianche così bianche da fermare agli occhi e i promontori alti e le grandi montagne brune. Ora viveva tutte le notti lungo quella costa e nel sogno udiva il fragore dei frangenti e vedeva le barche indigene che li fendevano. Mentre dormiva sentiva l'odore del catrame e della stoppa del ponte e sentiva l'odore dell'Africa regato al mattino dal vento di terra. Di solito quando sentiva l'odore del vento di terra si svegliava e si vestiva per andare a svegliare il ragazzo ma stanotte l'odore del vento di terra raggiunse molto presto e nel sogno capì che era troppo presto e continuò a sognare per vedere i picchi bianchi delle isole che sorgevano dal mare e poi sognò i porti e le rade delle isole canarie. Non sognava più tempeste né donne né grandi avvenimenti né grossi pesci né zuffe né gare di forza e neanche di sua moglie. Ora sognava soltanto luoghi e i leoni sulla spiaggia. Giocavano come gattini nel crepuscolo e gli piacevano come gli piaceva il ragazzo. Non sognava mai il ragazzo. Si svegliò guardò la luna attraverso la porta aperta e srotolò i calzoni e li indossò. Orinò fuori della capanna e poi risalì la strada per svegliare il ragazzo ma il vecchio sapeva che rabbrividendo si sarebbe scaldato e che presto avrebbe dovuto remare. La porta della casa dove dormiva il ragazzo non era chiusa a chiave e il vecchio l'aprì ed entrò in silenzio a piedi scalzi. Il ragazzo dormiva su un lettino della prima stanza e il vecchio lo vide distintamente alla luce della luna morente. Gli prese con garbo un piede e lo strinse finché il ragazzo si svegliò e si voltò a guardarlo. Il vecchio gli fece un cenno col capo e il ragazzo prese i calzoni dalla sedia accanto al letto e li infilò restando seduto sul letto. Il vecchio uscì e il ragazzo gli andò dietro. Aveva sonno e il vecchio gli cinse le spalle col braccio e disse Mi dispiace. Che va? disse il ragazzo. È quello che deve fare un uomo. Scesero la strada verso la capanna del vecchio e lungo tutta la strada nel buio si muovevano uomini scalzi che portavano in spalla l'albero della loro barca. Quando giunsero alla capanna del vecchio il ragazzo prese la cesta con le lenze e la fiocina e la gaffa e il vecchio si mise in spalla l'albero con la vela serrata. Vuoi un po' di caffè? chiese il ragazzo. Mettiamo le attrezzature in barca e poi andiamo a prenderlo. Bevettero il caffè da lattine di latte condensato in un locale aperto il mattino presto per i pescatori. Come hai dormito vecchio? chiese il ragazzo. Si stava svegliando adesso anche se gli riusciva ancora difficile uscire dal sonno. Benissimo Manolin disse il vecchio ho molta fiducia quest'oggi. Anch'io disse il ragazzo ora devo andare a prendere le nostre sardine e le tue esche fresche. Lui si porta l'attrezzatura da sé non permette mai a nessuno di portargli niente. Per noi è diverso disse il vecchio ti lasciamo portare le cose quando avevi cinque anni. Lo so disse il ragazzo ritorno subito prendi un altro caffè qui ci fanno credito. uscì scalzo sugli scogli di corallo dirigendosi verso il frigorifero dove erano riposte le esche. Il vecchio bevette lentamente il caffè non avrebbe preso altro per tutto il giorno e sapeva che gli era indispensabile berlo. Da molto tempo non gli andava di mangiare e non portava mai la colazione con sé. Aveva una bottiglia d'acqua a prua della barca e non aveva bisogno di altro per tutto il giorno. Il ragazzo ritornò con le sardine e due esche avvolto in un giornale e scesero la stradicciola che conduceva alla barca sentendosi la sabbia ghiaiosa sotto i piedi. Alzarono la barca e la misero in acqua. Buona fortuna vecchio! Buona fortuna disse il vecchio adattò gli stroppi dei remi agli scalmi e sporgendosi avanti a spingere le palle nell'acqua incominciò a remare al buio per uscire dal porto. Vi erano altre barche che prendevano il mare da altre spiagge e il vecchio udiva i tuffi e i colpi di remo pur non vedendoli ora che la luna era sotto le colline. A volte in una barca qualcuno parlava ma quasi tutte le barca erano silenziose eccetto il tuffo dei remi. si allontanarono le une dalle altre appena uscite dall'imboccatura del porto e ciascuna si avviò in quella parte di oceano in cui sperava di trovare pesci. Il vecchio intendeva dirigersi a largo e lasciò l'odore della terra alle spalle e remò nel fresco odor dell'oceano del primo mattino. Vide la fosforescenza delle alghe del golfo nell'acqua mentre remava in quella parte dell'oceano che i pescatori chiamavano il Gran Pozzo perché vi era un salto improvviso di più di mille metri in cui si adunavano pesci di ogni genere a causa del mulinello creato dalla corrente contro le pareti ripide del fondo dell'oceano. Si concentravano qui gamberetti e pesci da esca e a volte frotte di calamari nelle buche più profonde che la notte salivano alla superficie a far da nutrimento a tutti i pesci che passavano. Nell'oscurità il vecchio sentì giungere il mattino e mentre remava udì il suono tremolante dei pesci volanti che uscivano dall'acqua. e il sibilo fatto dalle rigide alitese mentre si allontanavano librate nel buio. I pesci volanti gli piacevano molto ed erano i suoi migliori amici sull'oceano. Pensò con dolore agli uccelli specialmente alle piccole delicate esterne nere che volavano che volavano sempre in cerca di qualcosa senza mai trovare nulla e pensò la vita degli uccelli è più dura della nostra tranne per gli uccelli da preda pesanti e forti. perché sono stati creati uccelli delicati e fini come queste rondini di mare se l'oceano può essere tanto crudele. Ha molta dolcezza e molta bellezza ma può diventare tanto crudele e avviene così d'improvviso e questi uccelli che volano tuffandosi per la caccia con quelle vocette tristi sono troppo delicati per il mare. Pensava sempre al mare come lamar come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male ma sempre come se parlassero di una donna. Alcuni fra i pescatori più giovani di quelli che usavano gavitelli come galleggianti per le lenze e avevano le barche a motore comprate quando il fecato di pescicane rendeva molto ne parlavano come el mar al maschile. Ne parlavano come di un rivale o di un luogo o perfino di un nemico. Ma il vecchio lo pensava sempre al femminile e come quelle cose che concedeva o rifiutava grandi favori e se faceva cose strane o malvagie era perché non poteva evitarle. La luna lo fa reagire come una donna pensò remava con regolarità e non faceva fatica perché non alterava la velocità e la superficie dell'oceano era piatta tranne di quando in quando per qualche mulinello della corrente. Lasciava fare un terzo del lavoro alla corrente e allo spuntare dell'alba si accorse di essere già più a largo di quanto avesse sperato. Ho lavorato nei pozzi profondi per una settimana e non ho combinato niente pensò. Oggi voglio lavorare fuori dove ci sono i banchi di palamite e di alalonghe e forse lì in mezzo ci sarà qualcosa di grosso. Prima che fosse giorno chiaro aveva gettato le esche e si lasciava trasportare dalla corrente. la prima esca aggiungeva una profondità di 40 tese la seconda aggiungeva 75 tese e la terza e la quarta erano affondate nell'acqua azzurra per cento 125 tese. Le esche pendevano a testa in giù col gambo dell'amo inserito nel pesce esca legato e fissato solidamente e tutta la parte ricurva dell'amo il braccio e la punta era coperta di sardine fresche. L'amo passava attraverso gli occhi delle sardine che creavano così una mezza ghirlanda sull'acciaio ricurvo. Non c'era parte dell'amo che non sarebbe riuscita dolce odorante e saporita per un bel pesce. Il ragazzo gli aveva dato due piccoli tuna o alla longhe freschi che stavano appesi alle due lenze più profonde come sonde e alle altre due aveva messo un grosso pesce azzurro e uno giallo che erano già stati usati. Ma erano ancora in buone condizioni e le sardine buonissime li rendevano profumati e appetitosi. Ogni lenza spessa come una grossa matita veniva fissata a un bastoncino instabile in modo che ogni volta che l'esca veniva tirata o sfiorata il bastoncino cadeva e per ogni lenza c'erano due duglie di 40 tese che si potevano aggiungere ed altre due duglie di riserva per cui in caso di necessità un pesce poteva avere a disposizione più di 300 tese di lenza. Ora il vecchio vide cadere tre bastoncini fuori dalla barca e diede qualche colpo garbato di remo per tenere le lenze ben verticali e alle profondità giuste. Era già chiaro e da un momento all'altro poteva sorgere il sole. Il sole sorse lieve dal mare e il vecchio vide le altre barche basse sull'acqua e vicino alla riva sparse nel corso della corrente. Poi il sole divenne più luminoso e abbagliò l'acqua e poi mentre sorgeva limpido il mare liscio lo fece rimbalzare negli occhi del vecchio dandogli un dolore acuto per cui continuò a remare senza guardarlo. Guardò giù nell'acqua e sorvegliò le lenze che scendevano dritte nel buio dell'acqua. Egli le teneva più dritte di tutti gli altri e così nel buio della corrente c'era un'esca in attesa a ogni livello nel punto esatto in cui egli desiderava che si trovasse per qualunque pesce potesse passare in quel punto altri le lasciavano in balia della corrente e a volte erano a 60 tese di profondità quando i pescatori credevano che fossero a 100 ma pensò io le tengo al posto giusto soltanto non ho fortuna ma chissà forse oggi ogni giorno è un nuovo giorno è meglio quando si ha fortuna ma io preferisco essere a posto così quando viene sono pronto ora il sole era alto da due ore e non gli faceva più tanto male agli occhi guardare verso oriente c'erano soltanto tre barche in vista ora ed erano molto basse e lontane verso la riva il primo sole mi ha sempre fatto male agli occhi da quando sono al mondo pensò però ho ancora gli occhi buoni la sera posso guardarlo fisso senza veder nero e la sera è anche più forte ma la mattina fa male proprio in quel momento vide davanti a sé una fregata con le lunghe ali scure che roteava nel cielo si calò in fretta scendendo obliqua sulle ali spinte indietro e poi tornò a roteare ha trovato qualcosa disse il vecchio ad alta voce non sta soltanto a guardare si avviò remando ad agio e con regolarità verso il punto in cui l'uccello stava roteando non si affrettò e tenne le lenze diritte ma forzò un poco la corrente per cui pur continuando a pescare senza commettere errori pescava più in fretta di quanto avrebbe fatto se non avesse avuto bisogno di servirsi della fregata l'uccello si alzò più alto nell'aria e tornò a roteare con le ali immobili poi si tuffò di improvviso e il vecchio vide un pesce volante schizzare fuori dell'acqua e procedere disperatamente sulla superficie delfini disse il vecchio ad alta voce grossi delfini disarmò i remi e prese una lenza piccola dalla prua aveva un bozzello di ferro e un amo di misura media e il vecchio lo innescò con una sardina lo gettò a mare e poi dia devolta la lenza su una bitta a poppa poi innescò un'altra lenza e la lasciò addugliare all'ombra della prua riprese il remare guardando l'uccello scuro dalle lunghe ali che ora agitava basso sull'acqua mentre glielo guardava l'uccello calò di nuovo tendendo obliquamente le ali per il tuffo e poi sbattendole all'impazzata inutilmente mentre seguiva il pesce volante il vecchio vedeva il contorno snello dell'acqua sollevata dai grandi delfini mentre inseguivano il pesce in fuga i delfini filavano sotto il volo del pesce per trovarsi in acqua a tutta velocità quando il pesce si fosse rituffato è una grande frotta di delfini pensò sono molto scostati gli uni dagli altri e il pesce volante ha poche speranze l'uccello non ha nulla da sperare i pesci volanti sono troppo grossi per lui e vanno troppo in fretta guardò il pesce volante saltar fuori dall'acqua più e più volte e i movimenti vani e i movimenti vani dell'uccello quella frotta se n'è andata pensò vanno troppo in fretta e troppo lontano ma forse ne troverò uno disperso e forse il mio bel pesce è l'intorno il mio bel pesce deve essere da qualche parte ora le nuvole a terra si alzavano come montagne e la costa non era che una lunga linea verde davanti alle colline grigio-azzurre l'acqua era di un azzurro scuro adesso così scuro che pareva violetto guardandovi dentro il vecchio vide il plankton rosso sparso nell'acqua scura e la strana luce prodotta ora dal sole guardò le lenze per vederle scendere dritte a perdita d'occhio nell'acqua e fu lieto di vedere tanto plankton perché questo significava pesci la strana luce prodotta dal sole nell'acqua ora che il sole era più alto significava bel tempo e così pure significava bel tempo la forma delle nuvole a terra ma la fregata ormai era quasi invisibile e nulla si mostrava sulle superfici dell'acqua tranne qualche chiazza gialla di sergassi sbiaditi dal sole e la bolla violetta stilizzata iridacente di una caravella che seguiva da vicino la barca si voltò su di un fianco e poi si raddrizzò galleggiava lietamente come una vescica trascinandosi dietro per un metro i lunghi filamenti violetti immobili nell'acqua agua mala disse il vecchio brutta puttana dalla posizione in cui si trovava appoggiandosi lievemente ai remi guardò nell'acqua e vide i pesciolini dello stesso colore dei filamenti trascinati che nuotavano tra i filamenti e sotto l'ombra minuscola prodotta dalla bolla alla deriva erano immuni a quel veleno ma gli uomini non lo erano e se qualche filamento si fosse impigliato nella lenza e vi fosse rimasto rimaccioso e violetto mentre il vecchio stava lavorando su un pesce gli sarebbero venute sulle braccia e sulle mani vesciche e piaghe come quelle prodotte dal veleno dell'edra e della quercia ma queste infezioni dell'agua mala venivano in fretta e colpivano come frustate le bolle iridescenti erano belle ma erano le cose più false del mare e al vecchio piaceva vederle mangiare dalle grandi tartarughe barine le tartarughe le vedevano si avvicinavano ad esse poi chiudevano gli occhi in modo da essere completamente protette dentro il guscio e le mangiavano coi filamenti e tutto al vecchio piaceva vederle mangiare dalle tartarughe e gli piaceva camminarvi sopra sulla riva dopo le tempeste e udirle esplodere quando le schiacciava con le piante incallite dei piedi gli piacevano le testuggini verdi e le tartarughe imbricate con la loro eleganza e velocità e il loro grande valore e provava un cordiale disprezzo per le enormi carette stupide gialle nella corazza a scaglie strane nel fare l'amore e felici a mangiare a occhi chiusi le caravelle non aveva misticismi per le tartarughe anche se per molti anni era andato a pescarle lo addoloravano tutte anche le grandi sfargi di lunghe come la barca che pesavano una tonnellata molti sono spietati con le tartarughe perché il cuore della tartaruga batte per molte ore dopo che è stata tagliata e squartata ma il vecchio pensava anch'io ho il cuore così e piedi e mani che assomigliano ai loro mangiava le uova bianche per darsi forza le mangiava per tutto maggio per essere forti a settembre e a ottobre per i pesci proprio grossi beveva anche una tazza di olio di fegato di pesce cane ogni giorno dal grande barile nella capanna dove molti pescatori tenevano le attrezzature l'olio era lì per tutti i pescatori che lo volevano la maggior parte dei pescatori ne detestavano il sapore ma non era peggiore dell'alzarsi alle ore in cui si alzavano e faceva molto bene per il raffreddore e l'influenza e faceva bene agli occhi ora il vecchio alzò lo sguardo e vide che l'uccello aveva cominciato a roteare ha trovato del pesce disse ad alta voce nessun pesce volante disturbava la superficie dell'acqua e non vi erano pesci da esca sparsi ma mentre il vecchio guardava un piccolo tuna si alzò nell'aria si voltò e si gettò a capofitto nell'acqua il tuna splendette argente o nel sole e dopo che si fu tuffato nell'acqua ne balzarono fuori altri e altri e saltavano in ogni direzione battendo l'acqua e gettandosi a lunghi balzi dietro l'esca la stavano circondando e sospingendo se non vanno troppo in fretta li raggiungo pensò il vecchio e guardò la frotta che faceva diventare bianca l'acqua e la fregata che ora calava e si tuffava sui pesci esca costretti dal panico a restare alla superficie quell'uccello è di grande aiuto disse il vecchio proprio in quel momento la lenza a poppa si irrigidì sotto il piede dove ne aveva tenuto un giro e il vecchio lasciò andare i remi e mentre teneva salda la lenza e incominciava a hissare sentì il peso del piccolo tuna che tirava vibrando la vibrazione aumentò mentre il vecchio tirava e questi vide il dorso azzurro del pesce nell'acqua e i fianchi dorati prima di capovolgerlo nella barca rimase a poppa nel sole compatto e a forma di palla con i grandi occhi privi di intelligenza sbarrati mentre riversava la vita pulsante contro il fasciame della barca coi rapidi colpi vibranti della coda veloce dai contorni precisi il vecchio per bontà lo colpì sulla testa e lo prese a calci mentre il corpo ancora tremava all'ombra della poppa alla longa disse ad alta voce sarà una bella esca potrà pesare quattro chili e mezzo non ricordava quando avesse incominciato a parlare forte da solo in passato quando era solo cantava e a volte cantava la notte quando era solo al timone nel suo turno sulle barche da tartaruga o sui barconi a vela da pesca probabilmente aveva cominciato a parlare forte solo quando il ragazzo lo aveva lasciato ma non ricordava quando pescavano insieme lui e il ragazzo di solito parlavano soltanto quando era necessario parlavano di notte o quando erano bloccati dalle burrasche era considerata una virtù non parlare se non in caso di necessità sul mare e il vecchio l'aveva considerata tale e l'aveva rispettata ma ora diceva spesso ad alta voce i suoi pensieri poiché non vi era nessuno che potesse esserne disturbato se gli altri mi sentissero parlare forte penserebbero che sono matto disse ad alta voce ma poiché non sono matto non me ne importa niente e quelli ricchi hanno la radio in barcha che parla con loro e dà le notizie del baseball ora non è il momento di pensare al baseball pensò ora è il momento di pensare a una sola cosa quella per cui sono nato forse se ne è uno grosso dalle parti di quella frotta pensò non ne ho preso che una delle ala longhe ma stanno andando a largo o in fretta tutto quello che viene a galla oggi va in fretta o verso nord est che sia l'ora o il tempo qualche segno che non conosco non vedeva più il verde della riva ormai ma soltanto le cime delle colline azzurre che si stendevano bianche come se fossero incappucciate di neve e le nuvole che sopra di esse parevano alte montagne nevose il mare era molto scuro e la luce creava prismi nell'acqua le chiazze innumerevoli di plankton erano ora cancellate dal sole alto ed erano soltanto i grandi prismi profondi nell'acqua azzurra che il vecchio vedeva ora con le lenze dritte nell'acqua profonda a un miglio i tuna i pescatori chiamavano così tutti i pesci di quella specie e li distinguevano coi veri nomi quando andavano a venderli o a scambiarli con esche erano di nuovo scesi ora il sole era caldo e il vecchio lo sentiva sulla nuca e sentiva il sudore scorrergli nella schiena mentre remava potrei farmi portare dalla corrente pensò e dormire e passarmi un doppino di lenze intorno al pollice per svegliarmi ma oggi sono 85 giorni e devo fare una buona giornata di pesca proprio in quel momento guardando le lenze vide tuffarsi di colpo uno dei bastoncini sporgenti sì disse sì e disarmò i remi senza far sobbalzare la barca si sporse a prendere la lenza e la tenne con delicatezza tra il pollice e l'indice della mano destra non sentì né sforzo né peso e tenne la lenza con leggerezza poi venne di nuovo questa volta era uno strappo di prova né forte né pesante e il vecchio sapeva esattamente cosa era a cento tese di profondità un marlin stava mangiando le sardine che coprivano la punta e il gambo dell'amo dove l'amo curvato a mano sporgeva dalla testa del piccolo tuna il vecchio tenne la lenza con delicatezza e teneramente con la mano sinistra la sciolse dal bastoncino ora poteva lasciarla scorrere tra le dita senza che il pesce sentisse alcuna pressione così a largo deve essere enorme in questo mese pensò mangia le pesce mangia le mangia le per favore sono belle fresche e tu sei laggiù a cento tese in acqua fredda al buio fai un altro giro al buio e torna indietro a mangiarle sentì gli ave strappo delicato e poi uno strappo più forte quando la testa della sardina doveva essere stata più difficile da staccare dal lamo poi più nulla su disse il vecchio ad alta voce fai un altro giro vieni ad annusarle non sono belle ora manzale per benino e poi c'è il tuna duro e fresco e bello non fare complimenti pesce manzale aspettò con la lenza tra il pollice e l'indice osservandola senza trascurare le altre perché il pesce avrebbe potuto notare più in alto o più in basso poi sentì lo stesso lieve strappo delicato ora prende disse il vecchio ad alta voce voglio a dio che prenda invece non prese se ne andò e il vecchio non sentì più nulla non può essere andato disse lo sa Cristo che non può essersene andato sta soltanto facendo un giro forse ha già abboccato un'altra volta e se ne ricorda poi sentì il lieve strappo alla lenza e fu la felicità era soltanto un giro disse ora prende fu la felicità sentire lo strappo lieve e poi qualcosa di duro e incredibilmente pesante era il peso del pesce e il vecchio lasciò filare giù 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 la lenza mentre si svolgeva la prima duglia di riserva mentre la lenza scendeva sdruzzolando gli lieve tra le dita il vecchio continuava a sentire il gran peso nonostante la pressione del pollice e dell'indice fosse quasi impercettibile che pesce disse lo tiene in bocca di traverso ora e se lo sta portando via poi si volterà e lo inghiottirà pensò non lo disse all'alta voce perché sapeva che a dirle le cose belle non succedono sapeva come era grosso questo pesce e lo immaginava mentre si allontanava nel buio col tuna tenuto di traverso in bocca in quel momento sentì che il pesce si fermava ma il peso c'era ancora poi il peso aumentò e il vecchio diede altra lenza aumentò per un attimo la pressione del pollice dell'indice e il peso crebbe e si diressa in profondità l'ho preso disse ora glielo faccio mangiare per bene si lasciò scivolare la lenza fra le dita e intanto allungò la mano sinistra e annodò l'estremità delle due duglie di riserva col cappio delle due duglie di riserva dell'altra lenza ora era pronto aveva tre duglie da quaranta tese di lenza di riserva adesso oltre alla duglia già incominciata mangiane ancora un po' disse mangia per bene mangia in modo che la punta del lamo ti entri nel cuore e ti uccida pensò sali con comodo e lascia che ti metta nel corpo la fiocina bene sei pronto ti sei fermato abbastanza a tavola ecco disse ad alta voce e diede uno strappo violento con tutte e due le mani recuperò un metro di lenza e poi tornò a tirare più e più volte abbattendo alternatamente le braccia sul cavo con tutta la forza delle braccia e il peso del corpo rotato non accadde nulla il pesce si limitò ad allontanarsi lentamente e il vecchio non riuscì a sollevarlo di un centimetro la lenza era forte e adatta ai pesci pesanti ed egli la resse con la schiena finché fu così tesa che ne schizzarono fuori alcune gocce d'acqua poi cominciò a fare un lieve rumore similante nell'acqua ed egli continuò a reggerla tenendosi in equilibrio contro il banco dei remi e curvandosi all'indietro per resistere alla pressione la barca incominciò a muoversi lentamente in direzione nord-ovest il pesce proseguì con regolarità e procedettero lentamente sull'acqua calma le altre esche erano ancora in acqua ma non c'era niente da fare come vorrei che ci fosse il ragazzo disse il vecchio ad alta voce sono rimorchiato da un pesce e io faccio da vita potrei fermare la lenza ma allora lui potrebbe spezzarla bisogna che lo tenga più che posso e che gli dia lenza quanto la vuole grazie a Dio sta andando avanti non in giù che cosa farò se decide di andare a fondo non lo so che cosa farò se affonda e muore proprio non lo so ma qualcosa farò c'è un mucchio di cose da poter fare continuò a reggere la lenza sulla schiena e ne osservò l'inclinazione nell'acqua e guardò la barca che si spostava con regolarità in direzione nord-ovest così morirà pensò il vecchio non può andare avanti così per sempre ma quattro ore dopo il pesce stava ancora nuotando con regolarità verso il largo rimorchiando la barca e il vecchio stava ancora saldamente in equilibrio con la lenza attraverso la schiena era mezzogiorno quando ha abboccato disse e ancora non l'ho visto prima che il pesce abboccasse il vecchio si era calzato bene in testa e il cappello di paglia e ora si sentiva tagliare la fronte aveva anche sete e si chinò in ginocchio e stando attento a non urtare la lenza si spinse più avanti che poté a prua e prese con una mano la bottiglia dell'acqua la pria ne beve un sorso poi si appoggiò alla prua si riposò sedendo sull'albero disarmato e cercò di non pensare solamente resistere poi si guardò alle spalle e vide che la terra ferma era scomparsa non importa pensò posso sempre rientrare con le luci dell'avana ci sono ancora due ore prima che tramonti il sole e forse lui verrà fuori prima se no forse verrà fuori con la luna se no forse verrà fuori con l'alba non ho crampi e mi sento forte è lui che ha l'amo in bocca ma che pesce per tirare così deve avere la bocca stretta sul ferro mi piacerebbe vederlo mi piacerebbe vederlo un momento solo per sapere contro che cosa devo combattere il pesce non cambiò mai percorso né direzione per tutta quella notte almeno per quanto poteva saperne il vecchio guardando le stelle dopo la calata del sole scese il freddo e il sudore del vecchio gli si asciugò sulla schiena e le braccia e le vecchie gambe durante il giorno aveva preso il sacco che copriva la tinozza delle esche e l'aveva steso al sole ad asciugare dopo la calata del sole se lo legò attorno al collo facendoseli ricadere sulla schiena e lo fece passare con cautela sotto la lenza che ora gli attraversava le spalle il sacco faceva da cuscino sotto la lenza e il vecchio aveva trovato un modo di star piegato in avanti appoggiandosi alla prua che gli permetteva di stare quasi comodo in realtà la posizione era soltanto un po' meno insopportabile ma a lui pareva quasi comoda non posso farci niente e neanche lui può farci niente pensò almeno fin quando va avanti così una volta si alzò in piedi e orinò fuori della barca e guardò le stelle e controllò la direzione la lenza segnava nell'acqua una striscia fosforescente che partiva direttamente dalle sue spalle ora procedevano più lentamente e le luci dell'avana non erano molto forti per cui capì che la corrente li stava trascinando verso oriente se ci allontaniamo dalla luce dell'avana si vede che andiamo più verso oriente pensò perché se la direzione del pesce non cambia devo vederla per molte altre ore chissà come andrà il baseball nelle grandi squadre quest'oggi pensò sarebbe magnifico avere una radio poi pensò non smettere di pensarci pensa a quello che stai facendo non devi fare stupidaggini poi disse ad alta voce come vorrei che ci fosse il ragazzo per potermi aiutare e per vedere questa cosa nessuno dovrebbe mai restare solo da vecchio pensò ma è inevitabile devo ricordarmi di mangiare il tuna prima che diventi cattivo per mantenermi in forza ricordati che voglia o non voglia devi mangiarlo in mattinata ricordati disse a se stesso durante la notte due focene si accostarono alla barca e il vecchio le odì rigirarsi e sbuffare riconosceva la differenza tra gli sbuffi rumorosi del maschio e quelli sospirosi della femmina sono buoni disse giocano e scherzano e fanno l'amore sono nostri fratelli come i pesci volanti poi cominciò ad avere pena del grande pesce che aveva boccato è meraviglioso e strano e chissà quanti anni ha pensò non mi è mai capitato un pesce così forte e che si sia comportato in modo così strano forse è troppo saggio per saltare potrebbe uccidermi se saltasse o se si mettesse a correre forte ma forse ha già boccato molte volte e sa che la sua battaglia va combattuta in questo modo non può sapere che c'è un uomo soltanto contro di lui e che quest'uomo è un vecchio ma come deve essere grosso e chissà quanto ne farò al mercato se la carne è buona da come ha preso l'esca sembra un maschio e tira come un maschio e non c'è panico nella sua lotta chissà se ha qualche piano o se è disperato come me ricordò una volta che era rimasta presa all'amo la femmina di una coppia di marlin che procedevano insieme il maschio lascia sempre nutrire prima la femmina e la femmina quando abboccò si gettò in una lotta folle disperata di panico che presto la ridusse senza forze e tutto il tempo il maschio le era rimasto accanto incrociando la lenza e roteando con lei sulla superficie era rimasto così vicino che il vecchio temeva di veder spezzare la lenza dalla coda tagliente come una falce e che della falce aveva quasi la stessa dimensione e forma quando il vecchio l'aveva accostata con la gaffa e presa mazzate stringendo il rostro per l'estremità scabra e pestandola sulla sommità della testa finché il colore dell'animale divenne quasi simile a quello del rovescio degli specchi e poi con l'aiuto del ragazzo l'aveva issata a bordo il maschio era rimasto accanto alla barca poi mentre il vecchio districava le lenze e preparava la fiocina il maschio fece un gran balzo in aria accanto alla barca per vedere dov'era la femmina e poi si tuffò a fondo con le ali color lavanda che erano le sue pinne pettorali ben distese e tutte le larghe strisce color lavanda in vista era bello il vecchio lo ricordava e non era scappato è stata la cosa più triste che abbia mai visto pensò il vecchio anche il ragazzo era triste e le abbiamo chiesto scusa e l'abbiamo squartata senza indugi come vorrei che ci fosse il ragazzo disse ad alta voce e si sistemò sulle assitonde della prua e dalla lenza che gli attraversava le spalle sentì la forza del grosso pesce che procedeva regolarmente nella direzione che aveva scelto quindi il mio inganno lo ha costretto a scegliere pensò il vecchio aveva scelto di restare nell'acqua profonda e scura al largo fuori di tutte le trappole le reti e gli inganni la scelta mia era stata quella di andare laggiù a scoprirlo al di là di tutta la gente del mondo ora siamo legati l'uno all'altro e lo siamo da mezzogiorno e nessuno dei due ha qualcuno ad aiutarlo forse non avrei dovuto fare il pescatore pensò ma è per questo che sono nato devo assolutamente ricordarmi di mangiare il tuna appena si fa giorno un po' prima dell'alba qualcosa abboccò a una delle esche che gli stavano alle spalle udì il bastoncino che si spezzava e la lenza che incominciava a correre oltre il bordo della barca nel buio il vecchio estrasse il coltello dalla guaina raggendo tutto il peso del pesce sulla spalla sinistra si chinò indietro e tagliò la lenza contro la barchetta poi tagliò l'altra lenza che gli stava più vicina e al buio annodò le estremità delle duglie di riserva lavorò abilmente con una sola mano e appoggiò il piede sulle duglie per tenerle ferme mentre stringeva i nodi ora aveva sei duglie di riserva ce ne erano due per ogni esca tagliata e le due dell'esca presa dal pesce erano tutte legate insieme quando fa giorno pensò mi occuperò dell'esca di quarantatese e taglierò anche quella e annoderò le due duglie di riserva vuol dire che avrò perso duecento tese di buon cordel catalano e gli ami ai bozzelli è roba che ci può sostituire ma chi sostituisce questo pesce se abbocca qualche altro pesce e lo taglia fuori non so che pesce fosse quello che ha abboccato l'esca adesso poteva essere un marlino un pesce spada un pesce cane non l'ho sentito tirare ho dovuto fare troppo in fretta a sbarazzarmene ad alta voce disse come vorrei che ci fosse il ragazzo ma il ragazzo non c'è pensò ti sei solamente tu ed è meglio che ti occupi dell'ultima lenza adesso buio o non buio e che tu tagli e annodi le due duglie di riserva così fece era difficile il buio e una volta il pesce fece un balzo che lo gettò a faccia in avanti causandogli un taglio sotto l'occhio il sangue gli scese lungo la guanza ma coagulò e si asciugò prima di giungere al mento e il vecchio si accostò faticosamente alla prua e si appoggiò al legno sistemò il sacco e spostò con cura la lenza in modo che si appoggiasse a un altro punto delle spalle e tenendola ferma con le spalle tastò con cura la pressione del pesce e poi provò con la mano la velocità della barca nell'acqua chissà perché ha dato quello scrollone pensò forse il filo gli è scivolato sulla schiena certo la schiena non può far di male come la mia ma non è possibile che tiri questa barca in eterno per grosso che sia ora non c'è più niente che possa provocare guai e ha una gran riserva pesce disse con sommessa voce resterà con te fino alla morte anche lui resterà con me pensò il vecchio e aspettò che sorgesse la luce faceva freddo adesso prima dell'alba e il vecchio si strinse al legno per stare caldo ce la farò finché ce la farà lui pensò e alla prima luce la lenza era attesa lontana profonda nell'acqua la barca procedeva regolarmente e quando il primo sole sorse fu sulla spalla destra del vecchio è diretto a nord disse il vecchio la corrente ci avrebbe spinto in direzione est pensò come vorrei che avesse voltato con la corrente avrebbe voluto dire che era stanco quando il sole fu più alto il vecchio si rese conto che il pesce non si stancava vi fu un unico segno favorevole l'inclinazione della lenza rivelò che il pesce nuotava una profondità minore questo non significava necessariamente che avrebbe fatto il salto ma poteva farlo dio fa che salti disse il vecchio ho abbastanza lenza da dominarlo forse se aumento appena un tantino la tensione gli faccio male e lo faccio saltare pensò ora che giorno bisognerebbe farlo saltare in modo che si riempia d'aria le sacche lungo la colonna vertebrale e così non possa andare a morire a fondo cercò di aumentare la tensione ma la lenza era stata tesa quasi fino a spezzarsi da quando il pesce aveva abboccato e il vecchio sentì la resistenza quando si chinò indietro per tirare e capì che non poteva aumentare lo sforzo non devo farla muovere pensò ogni movimento allarga il taglio fatto dal lamo e allora quando il pesce salta potrebbe liberarsi comunque mi sento meglio ora che c'è il sole e una volta tanto non ho da guardarlo in faccia vi erano alghe gialle sulla lenza ma il vecchio sapeva che si limitavano a fare da freno e ne fu lieto erano le alghe gialle del golfo che avevano emanato tanta fosforescenza durante la notte pesce disse ti voglio bene e ti rispetto molto ma ti avrò ammazzato prima che finisca questa giornata speriamo pensò un uccello minuscolo si avvicinò alla barca da nord era una silvia che volava molto basso sull'acqua il vecchio capì che era molto stanca l'uccello giunse sulla poppa della barca e vi si posò poi volò attorno alla testa del vecchio e si posò sulla lenza dove si sentì più comodo quanti anni hai chiese il vecchio all'uccello è il primo viaggio che fai l'uccello lo guardò mentre il vecchio parlava era troppo stanco perfino per esaminare la lenza e barcollava mentre le zampe delicate la stringevano stretta è ferma gli disse il vecchio è troppo ferma non dovresti essere così stanco dopo una notte senza vento dove si dirigono gli uccelli verso i falchi pensò che vengono in mare per cercarli ma non parlò di questo all'uccello che comunque non l'avrebbe capito e avrebbe saputo fin troppo presto dei falchi riposati bene uccellino disse poi vai e rischia quel che devi rischiare come qualsiasi uomo o uccello o pesce parlare gli dava coraggio perché durante la notte la schiena gli si era irrigidita e ora gli faceva molto male fermati in casa mia se vuoi uccello disse mi dispiace di non poter hissare la vela e trasportarti nel venticello che si sta alzando ma ho da fare con un amico proprio in quel momento il pesce diede uno strattone improvviso che fece cadere il vecchio sulla prua e l'avrebbe scaraventato a mare se non avesse ritrovato l'equilibrio e non avesse dato un po' di lenza l'uccello si era alzato in volo quando la lenza aveva sobbalzato e il vecchio non l'aveva neanche visto andarsene tastò la lenza con cura con la mano destra e si accorse di aver la mano insanguinata allora è stato ferito disse ad alta voce e ricominciò a tirare la lenza per vedere se riusciva a far voltare il pesce ma quando giunse al punto della massima tensione si fermò e si rimise in equilibrio contro il peso della lenza e incomincia ad accorgertene pesce disse e Dio sa che me ne sto accorgendo anch'io si guardò attorno in cerca dell'uccello perché gli sarebbe piaciuto averlo per compagnia l'uccello era scomparso non ti sei fermato a lungo pensò il vecchio ma sarà peggio dove andrai finché non arrivi a spiaggia come ho potuto lasciare che il pesce mi ferisse con quello strattone si vede che sto diventando proprio stupido o forse stavo guardando l'uccellino e mi ero distratto ora penserò al lavoro e poi devo mangiare il tuna perché non mi manchino le forze come vorrei che ci fosse il ragazzo e come vorrei avere un po' di sale disse ad alta voce spostando il peso della lenza sulla spalla sinistra e inginocchiandosi con cautela si lavò la mano in mare e ve la tenne immersa più di un minuto guardando la scia di sangue che si allontanava e il movimento regolare dell'acqua contro la mano mentre la barca procedeva ha rallentato molto disse il vecchio avrebbe voluto tenere più a lungo la mano nell'acqua salata ma aveva paura di un altro strattone improvviso del pesce e si rizzò mettendosi in equilibrio e alzò la mano contro il sole era stata la lenza a fargli un taglio nella carne ma era in un punto della mano che doveva lavorare sapeva che avrebbe avuto bisogno delle mani prima che tutto fosse finito e non gli piaceva essersi tagliato prima di cominciare ecco disse quando la mano si fu asciugata ora devo mangiare il piccolo tuna posso prenderlo con la gaffa e mangiarlo qui comodamente si inginocchiò e con la gaffa trovò il tuna a pop e lo tirò verso di sé senza farlo impigliare tra le lenze adugliate reggendo di nuovo la lenza con la spalla sinistra e tenendosi in equilibrio sulla mano e il braccio sinistro tolse il tuna dal gancio della gaffa e rimise la gaffa a posto posò un ginocchio sul pesce e tagliò strisce longitudinali di carne rosso scuro dal fondo della testa alla coda erano strisce a forma di cuneo e ne tagliò dalla spina dorsale fino alla pancia quando ebbe tagliato sei strisce le distese sul legno della prua si pulì il coltello sui calzoni e sollevò per la coda la carcassa del bonito per gettarla in mare non credo che riuscirò a mangiarne uno intero disse e con il coltello tagliò una striscia a metà sentiva la pressione forte e regolare della lenza e gli venne un crampo alla mano sinistra era stretta sul cavo pesante e il vecchio la guardò con disgusto che razza di mano è mai questa disse se vuoi un crampo tientilo diventa pure un artiglio non ti servirà a niente su pensò e guardò nell'acqua buia l'inclinazione della lenza adesso mangia che ti darà forza alla mano non è colpa della mano sei rimasto troppe ore con questo pesce ma puoi restare con lui in eterno ora mangia il bonito ne prese un pezzo e lo portò alla bocca e lo masticò lentamente non era sgradevole masticalo bene pensò e spremine tutti i succhi non sarebbe cattivo a mangiarlo con un po' di arancio o limone o sale come stai mano chiese alla mano intorpidita rigida come se fosse morta ora ne mangio un po' per te mangiò l'altra parte del pezzo che aveva tagliato in due la masticò con cura e poi sputò la pelle come va mano o è troppo presto per saperlo prese un altro pezzo e lo masticò è un bel pesce pieno di sangue pensò ho avuto fortuna a trovare questo invece di un delfino il delfino è troppo dolce questo non è per niente dolce è ancora tutta la sostanza bisogna essere pratici non c'è altro che conta pensò vorrei avere un po' di sale e non so se il sole farà marcire o seccare quello che avanza così è meglio che lo mangi tutto anche se non ho fame il pesce va con calma e regolarità lo mangerò tutto e poi sarò pronto abbi pazienza mano disse lo faccio per te vorrei poter dar da mangiare al pesce pensò è mio fratello ma devo ucciderlo e mantenermi forte per farlo lentamente e coscienziosamente mangiò tutte le strisce appuntite del pesce si rizzò pulendosi la mano sui calzoni ecco disse ora puoi lasciare andare la corda mano e mi occuperò di lui col braccio destro soltanto finché avrai finito questa storia posò il piede sinistro sulla lenza pesante che era stata sorretta dalla mano sinistra e la schiena si piegò sotto la pressione io mi aiuti a farmi passare il crampo disse perché non so che cosa farà il pesce ma sembra calmo pensò come se seguisse un suo piano quale sarà il suo piano pensò e qual è il mio il mio devo improvvisarlo sul suo per via della sua dimensione se fa un salto posso ucciderlo ma lui sta a fondo per sempre allora starò a fondo con lui per sempre si stropicciò la mano intorpidita contro i calzoni e cercò di articolare le dita ma non si aprì forse si aprirà col sole pensò forse si aprirà quando avrò digerito il tuna crudo se dovrò farlo l'aprirò costi quel che costi ma non voglio aprirla adesso per forza è meglio che si apra da sé e si metta a posto per conto suo dopo tutto ne ho abusato molto questa notte quando ho dovuto sciogliere e legare tutte le lenze guardò il mare e capì fino a che punto era solo adesso ma vedeva i prismi nell'acqua scura profonda e la lenza tesa in avanti e la strana ondulazione della bonaccia le nuvole ora si stavano formando sotto l'aliseo e guardando avanti a sé vide un branco di anatre selvatiche stagliarsi nel cielo sull'acqua poi appannarsi poi stagliarsi di nuovo e capì che nessuno era mai solo sul mare pensò a quelli che hanno paura di trovarsi lontano da terra su una barca a remi e sapeva che avevano ragione nei mesi dei piovaschi improvvisi ma ora erano i mesi delle burrasche e quando non c'è burrasca il clima dei mesi delle burrasche è il migliore dell'anno quando c'è una burrasca se ne vedono i segni nel cielo giorni e giorni prima quando c'è il mare a terra non si vedono perché non si sa che cosa guardare pensò e poi la terra deve rendere diversa la forma delle nuvole ma ora non c'è burrasca in vista guardò il cielo e vide il cumulo bianco che pareva fatto di mucchietti cordiali di gelato e più in alto vi erano le piume delicate dei cirri sull'alto cielo di settembre brisa lezzera disse tempo migliore per me che per te pesce la mano sinistra era ancora intorpidita ma il vecchio la stava sciogliendo lentamente io odio i crampi pensò sono un tradimento del corpo è umiliante in presenza di altri avere una diarrea o vomitare per via di un avvelenamento ma un crampo lo pensò come calambre umilia specialmente quando si è soli se ci fosse il ragazzo mi stropiccierebbe la mano e me lo farebbe scendere giù dall'avambraccio pensò ma scenderà da sé poi con la mano destra tastò la differenza nella pressione della lenza prima di vedere il cambiamento dell'inclinazione nell'acqua poi mentre si chinava contro la lenza e si batteva la mano sinistra con energia e rapidità contro la coscia vide che la lenza si inclinava lentamente verso la superficie dell'acqua sta salendo disse su mano su per favore la lenza si alzò lentamente e regolarmente e poi la superficie dell'oceano si sollevò davanti alla barca e il pesce uscì uscì senza fine e l'acqua gli ricadde dai fianchi era lucente nel sole e la testa e la schiena erano di un rosso scuro e nel sole le strisce sui fianchi apparivano larghe di un lavanda leggero la spada era lunga come una mazza da baseball e appuntita come una labarda e il pesce si alzò in tutta la sua lunghezza dall'acqua e poi vi rientrò dolcemente come in un tuffo e il vecchio vide la grande lama falcata della coda andare sott'acqua e la lenza incominciò a filare è mezzo metro più lungo della barca disse il vecchio la lenza si allontanava in fretta ma regolarmente e il pesce non era preso dal panico il vecchio cercò con tutte e due le mani di tenere la lenza in modo che non si spezzasse sapeva che se non riusciva a far rallentare il pesce con una pressione regolare il pesce poteva prendere tutta la lenza e spezzarla è un pesce grosso e devo vincerlo pensò devo impedirgli di rendersi conto della sua forza e di quello che potrebbe fare fuggendo se fosse al suo posto è adesso che ce la darei tutta e andrei avanti finché si spaccasse qualcosa ma grazie a Dio non sono intelligenti come noi che li uccidiamo anche se sono più nobili e più capaci il vecchio aveva visto molti pesci grossi ne aveva visti molti che pesavano più di quattro quintali e mezzo e ne aveva già presi due di quelle dimensioni in vita sua ma non era mai stato solo ora da solo e in piano mare aperto era legato al pesce più grosso che avesse mai visto e di cui avesse perfino sentito parlare e aveva la mano sinistra ancora serrata come la morsa degli artigli di un'aquila ma certo si scioglie pensò certo ora si scioglie per venire in aiuto alla mano destra sono in tre a essermi fratelli il pesce e le due mani è necessario che si scioglia è indegno di lei avere il crampo il pesce aveva di nuovo rallentato e procedeva all'andatura consueta chissà perché ha fatto quel salto pensò il vecchio pareva quasi che volesse farmi vedere come era grosso comunque ora lo so pensò vorrei poter dimostrare che tipo d'uomo sono io ma allora mi vedrebbe la mano col crampo facciamogli credere che sono più uomo di quanto non lo sia e così lo diventerò vorrei essere il pesce pensò con tutto quello che era contrapporre alla mia volontà e alla mia intelligenza che sono l'unica cosa che ho io si appoggiò comodo al legno e accettò le sofferenze così come gli venivano e il pesce continuò a nuotare regolarmente e la barca a spostarsi lentamente nell'acqua scura si alzò un po' di mare col vento che veniva da est e a mezzogiorno la mano del vecchio non aveva più il crampo cattive notizie per te pesce disse e spostò la lenza sui sacchi che gli coprivano le spalle era comodo ma soffriva anche se non ammetteva di soffrire non sono religioso disse ma dirò dieci paternoster e dieci ave maria per prendere questo pesce e se lo prendo prometto di fare un pellegrinaggio alla vergine di cobre è una promessa cominciò a recitare meccanicamente le preghiere ogni tanto era così stanco che non riusciva a ricordare le parole e allora le diceva in fretta perché gli venissero meccanicamente l'ave maria è più facile da dire del paternoster pensò ave maria piena di grazia il signore è con te benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte amen poi aggiunse vergine benedetta prega per la morte di questo pesce per meraviglioso che sia dette le preghiere si sentì molto meglio anche se soffriva esattamente come prima e forse un po' di più e si appoggiò al legno della prua e incominciò meccanicamente a muovere le dita della mano sinistra ora il sole era caldo nonostante la brezza che si stesse alzando leggera è meglio che rimetta l'esca alla lenza piccola a poppa disse se il pesce decide di resistere un'altra nottata avrò di nuovo bisogno di mangiare e l'acqua nella bottiglia è quasi finita credo che non riuscirò a prendere che un delfino in questo punto ma se lo mangio abbastanza fresco non sarà cattivo come vorrei che stanotte mi venisse a bordo un pesce volante ma io non ho luci per attirarlo un pesce volante è buonissimo da mangiare crudo e non avrei bisogno di tagliarlo ora devo risparmiare tutte le forze Cristo non sapevo che fosse così grosso però lo ucciderò disse in tutta la sua grandezza e il suo splendore anche se è ingiusto pensò ma gli farò vedere che cosa sa fare un uomo e che cosa sopporta un uomo ho detto al ragazzo che sono un vecchio strano disse è questo il momento di dimostrarglielo le mille volte che già lo avevo dimostrato non avevano importanza ora lo stava dimostrando di nuovo ogni volta era una volta nuova e non pensava mai al passato quando lo faceva vorrei che si addormentasse e che potessi dormire anch'io e sognare i leoni pensò perché sono i leoni la cosa più importante che mi è rimasta non pensare vecchio disse a se stesso riposati piano piano ora sul legno e non pensare a nulla lui sta lavorando lavora meno che puoi stava incominciando il pomeriggio e la barca continuava a spostarsi lentamente e regolarmente ma veniva un nuovo intralcio adesso dal vento che giungeva da est e il vecchio procedeva piano con la maretta e il dolore della lenza sulla schiena gli giungeva facile e dolce una volta nel pomeriggio la lenza ricominciò a salire ma il pesce si limitò a continuare a nuotare a un livello leggermente più alto il vecchio aveva il sole sul braccio e la spalla sinistra e sulla schiena così sapeva che il pesce aveva voltato a est da nord ora che lo aveva visto riusciva a immaginare il pesce mentre nuotava nell'acqua con le pinne pettorali violette spalancate come ali e la grande coda eretta che fendeva il buio chissà se riesce a vedere a quella profondità pensò il vecchio ha l'occhio enorme e i cavalli che hanno gli occhi molto più piccoli riescono a vedere al buio una volta vedevo abbastanza bene al buio non nel buio assoluto ma quasi come un gatto il sole e il movimento regolare delle dita ormai gli avevano sciolto completamente il crampo della mano sinistra e il vecchio incominciò a passarle una maggior quantità di peso e mosse i muscoli della schiena per spostare un poco il dolore della lenza se tu non sei stanco pesce disse ad alta voce devi essere ben strano ora si sentiva molto stanco e sapeva che presto sarebbe giunta la notte e cercava di pensare ad altro pensò alle grandi leghe per cui erano le gran ligas e sapeva che gli yankee di new york giocavano contro i tigers di detroit è già il secondo giorno che non so il risultato degli eugos pensò ma devo avere fiducia e devo essere degno del grande di maggio che fa sempre tutto alla perfezione anche col dolore del soprosso nel calcagno che cos'è un soprosso? si chiese una espuola de queso noi non ne abbiamo farà male come lo sperone di un gallo da combattimento in un calcagno non credo che riuscirei a sopportarlo e neanche la perdita di un occhio e di tutte e due gli occhi e di continuare a combattere come fanno i galli da combattimento l'uomo non è granché vicino agli uccelli e alle bestie vorrei proprio essere quella bestia laggiù nel buio del mare purché non vengono i pescecani disse ad alta voce se vengono i pescecani Dio abbia pietà di lui e di me credi che il grande di maggio resisterebbe con un pesce tutto il tempo che io resisterò con questo pensò sono certo di sì e ancora di più dato che è giovane e forte anche il suo padre faceva il pescatore ma il soprosso gli farebbe proprio male non lo so disse ad alta voce non ho mai avuto un soprosso quando il sole tramontò per farsi coraggio ricordò che una volta in una taverna di Casablanca aveva giocato al braccio di ferro quel grande negro di Cienfuegos che era l'uomo più forte del porto erano rimasti un giorno e una notte con i gomiti su una linea di gesso tracciata sul tavolo e gli avambracci ritti e le mani serrate in una morsa ciascuno cercava di costringere la mano dell'altro ad abbattersi sul tavolo si erano fatte molte scommesse e la gente andava e veniva dalla stanza sotto le lampade a petrolio e il vecchio continuava a guardare il braccio e la mano del negro e la faccia del negro cambiavano gli arbitri ogni quattro ore dopo le prime otto perché gli arbitri potessero dormire usciva sangue da sotto le unghie sue e del negro e si guardavano negli occhi e guardavano le mani e gli avambracci e gli scommettitori andavano e venivano per la stanza e si mettevano a sedere sui soggioloni lungo la parete e stavano a guardare le pareti erano dipinte di un azzurro vivace ed erano di legno e le lampade vi gettavano contro le loro ombre l'ombra del negro era enorme e si muoveva sulla parete ogni volta che l'aria muoveva le lampade le scommesse cambiarono e uscillarono tutta la notte e il negro venne nutrito col rum e a lui diedero sigarette già attese il negro dopo il rum faceva sforzi colossali e una volta aveva fatto perdere l'equilibrio di quasi 8 centimetri al vecchio che allora non era vecchio ma Santiago il campeon ma il vecchio aveva rialzato la mano rimettendola in pari fu certo allora che avrebbe battuto il negro che era un uomo in gamba e un grande atleta e all'alba quando gli scommettitori chiedevano che si tirasse a sorte e l'arbitro sguoteva la testa aveva sferrato il suo attacco e aveva forzato la mano del negro giù e giù finché si era appoggiata al legno la gara era incominciata una domenica mattina ed era finita il lunedì mattina molti scommettitori avevano chiesto che si tirasse a sorte perché dovevano andare a lavorare sui moli a caricare sacchi di zucchero o all'avana qua al company altrimenti tutti avrebbero voluto che giungesse alla fine ma lui comunque l'aveva finita e prima che la gente dovesse andare al lavoro dopo tutti l'avevano chiamato per molto tempo il campione e in primavera c'era stata la rivincita ma non vi erano state molte scommesse e aveva vinto molto facilmente perché quella prima gara aveva intaccato la fiducia del negro di Sienfuegos dopo quella volta aveva fatto ancora qualche gara e poi mai più decise che se proprio ne aveva voglia poteva battere chiunque e decise che gli faceva male alla mano destra per la pesca aveva provato a fare qualche gara di allenamento con la mano sinistra ma la mano sinistra era sempre stata una traditrice e non faceva quello che doveva fare e il vecchio non se ne fidava il sole ora la brustolirà per bene pensò non dovrebbe ritornarmi il crampo se durante la notte non viene troppo freddo chissà che cosa succederà stanotte in alto passò un aeroplano diretto a Miami e il vecchio non osservò l'ombra che metteva paura alle frotte di pesci volanti con tutti questi pesci volanti dovrebbero esserci i delfini disse e fece forza contro la lenza per vedere se gli riusciva di recuperarne un po' ma non riuscì e la lenza rimase tesa e vibrante d'acqua come nel momento che precede lo strappo la barca procedeva lentamente e il vecchio guardò l'aeroplano finché esso scomparve dove essere molto strano in aeroplano pensò chissà com'è il mare da quell'altezza dovrebbero veder bene il pesce se non volano troppo alto mi piacerebbe volare molto ad agio a 200 tese d'altezza e vedere il pesce dall'alto nelle barche per le tartarughe stavo sul pennone di parrocchetto e già da quell'altezza vedevo molto i delfini sembravano più verdi di lassù e si possono vedere le strisce e le macchie viola e si può vedere tutto il branco mentre nuota chissà perché tutti quei pesci veloci che stanno nell'acqua buia hanno la schiera viola e per lo più strisce o macchie viola naturalmente il delfino sembra verde ma non lo è perché in realtà è color dell'oro ma quando viene a mangiare che è proprio affamato sui fianchi gli si vedono strisce viola come sui marlin che sia la collera o la velocità maggiore a farla venire fuori poco prima che scendesse il buio mentre oltrepassavano una grande isola di sargassi che si gonfiava e muoveva nel mare chiaro come se l'oceano facesse all'amore sotto una coperta gialla alla lenza piccola boccò un delfino il vecchio lo vide per la prima volta quando balzò nell'aria proprio come l'oro nell'ultimo sole e prese a curvarsi e sbattere all'impazzata nell'aria continuò a balzare spinto dalla paura e il vecchio ritornò a poppa e accoccolandosi e tenendo la lenza grande con la mano e il braccio destro tirò il delfino con la mano sinistra posando il piede sinistro nudo sulla lenza ogni volta che ne conquistava un pezzo quando il pesce giunse a poppa tuffandosi rivoltandosi disperato il vecchio si sporse fuori dalla poppa e sollevò a bordo il pesce d'oro brunito con le sue macchie viola le macelle si contraevano convulse immorsi veloci sul lamo mentre il pesce batteva il fondo della barca con il corpo piatto la coda e la testa finché fu preso ammazzate sulla testa dorata scintillante era brividì e rimase immobile il vecchio tolse l'amo dal pesce rimise un'altra sardina come esca alla lenza e la gettò in mare poi si avvicinò lentamente a prua si lavò la mano sinistra e si lasciugò sui calzoni poi spostò la lenza pesante dalla mano destra alla sinistra e si lavò la mano destra mentre guardava il sole scendere nell'oceano e l'inclinazione del grande cavo non ha cambiato affatto disse ma guardando il movimento dell'acqua sulla mano si accorse che era visibilmente più lento legherò i due rami insieme attraverso la poppa e questo la farà rallentare durante la notte disse è ancora in gamba per la nottata e lo sono anch'io è meglio sventrare il delfino un po' più tardi perché gli resti il sangue nella carne pensò lo farò più tardi e intanto legherò i remi per frenare è meglio che per ora lasci il pesce tranquillo e non lo disturbi troppo al tramonto il tramonto del sole è il momento difficile per tutti i pesci si asciugò la mano all'aria poi afferrò la lenza e si mise più a suo agio che poté e si lasciò tirare in avanti contro il legno in modo che la barca reddesse lo sforzo quanto e più di lui sto imparando come fare pensò almeno in questo poi ricordati che non ha mangiato da quando ha preso l'esca ed è enorme e ha bisogno di molto cibo io ho mangiato tutto il bonito domani mangerò il delfino lo chiamò dorado forse dovrai mangiarne un po' mentre lo pulisco sarà più duro da mangiare del bonito ma non c'è niente di facile come stai pesce? chiese a voce alta io sto bene e la mano sinistra va meglio e ho da mangiare per una notte e un giorno tira la barca pesce in realtà non si sentiva bene perché il dolore della corda attraverso la schiena aveva quasi oltrepassato il dolore ed era diventato una monotonia che non gli ispirava fiducia ma mi è capitato di peggio pensò nella mano non ho neanche un taglietto piccolo e nell'altra il crampo se n'è andato le gambe sono a posto e poi adesso sono più forte di lui nella questione del cibo ormai era buio come diventa buio in fretta quando tramonta il sole in settembre il vecchio si stesse sul legno consunto della prua e si riposò più che potè spuntarono le prime stelle non sapeva che si chiamava Rigel ma la vide e sapeva che presto sarebbero spuntate tutte e ci sarebbero stati tutti i suoi amici lontani anche il pesce è mio amico disse ad alta voce non ho mai visto e non ho mai sentito parlare di un pesce simile ma devo ucciderlo sono contento che non dobbiamo cercare di uccidere le stelle pensa se ogni giorno un uomo dovesse cercare di uccidere la luna pensò la luna scappa ma pensa se un giorno uno dovesse cercare di uccidere il sole siamo nati fortunati pensò poi gli dispiacque che il grosso pesce non avesse nulla da mangiare e il dispiacere non indebolì mai la decisione di ucciderlo a quanta gente farà da cibo pensò ma sono degni di mangiarlo no no di certo non c'è nessuno degno di mangiarlo con questo suo nobile contegno e questa sua grande dignità non capisco queste cose pensò ma è una fortuna che non dobbiamo cercare di uccidere il sole o la luna o le stelle basta già vivere sul mare e uccidere i nostri veri fratelli ora pensò devo pensare al freno presenta i suoi pericoli e i suoi vantaggi può darsi che mi faccia sprecare tanta lenza che finirò per perderlo se sferra il suo attacco il freno dei remi è a posto e la barca perde la leggerezza questa leggerezza prolunga tutti e due la sofferenza ma è la mia salvezza perché lui non ha ancora sfruttato tutta la velocità di cui è capace qualunque cosa succede devo sventrare il delfino perché non vada male e devo mangiarne un po' per restare forte ora riposerò un'altra oretta e sentirò che il pesce sia solido e regolare prima di andare a poppa al lavoro e a decidermi intanto posso vedere come agisce e se mostra qualche cambiamento quello dei remi è un buon trucco ma è giunto il momento che deve diventare la salvezza è anche un gran pesce e ho visto che aveva l'amo nell'angolo della bocca e ha tenuto la bocca chiusa la sconfitta dell'amo non è nulla è la sconfitta della fame il fatto di trovarsi contro qualcosa che non riesce a capire a essere tutto ora riposati vecchio e lascialo lavorare finché avviene il tuo turno riposò per quello che gli parvero due ore la luna non si alzò fino a tardi e il vecchio non aveva modo di stabilire l'ora ora riposava davvero sia pure relativamente reggeva ancora la pressione del pesce sulle spalle ma posò la mano sinistra sulla falchetta della prua e affidò sempre più alla barca la resistenza del pesce come sarebbe semplice se potessi dar di volta alla lenza pensò ma il primo strattone la potrebbe spezzare devo trattenere col corpo la pressione della lenza ed essere pronto da un momento all'altro a dare lenza con tutte e due le mani ma tu non hai ancora dormito vecchio disse ad alta voce era una mezza giornata e una nottata e ora un'altra giornata che non dormi devi inventare qualcosa per poter dormire un po' se lui sta quieto e tranquillo se non dormi rischi di perdere la lucidità mentale sono lucido abbastanza nella mente pensò troppo lucido sono lucido come le stelle che sono miei fratelli però devo dormire loro dormono e la luna e il sole dormono e perfino l'oceano dorme a volte certi giorni che non c'è corrente e l'acqua è calma ma ricorda di dormire pensò fai in modo di riuscirvi e inventa qualcosa di semplice e sicuro per le lenze ora va a preparare il delfino è troppo pericoloso armare i remi da freno se devi dormire potrei resistere senza dormire disse a se stesso ma sarebbe troppo pericoloso si avviò verso Poppa appoggiandosi alle mani e alle ginocchia attento a non far sobbalzare il pesce può darsi che sia mezzo addormentato anche lui pensò ma non voglio che si riposi deve tirare finché muore arrivato a Poppa si voltò in modo che la mano sinistra potesse reggere il peso della lenza sulle spalle e con la mano destra estrasse il coltello dalla guaina ora le stelle erano lucenti e il vecchio vide distintamente il delfino e gli immerse la lama del coltello nella testa e lo tirò fuori da sotto la Poppa posò un piede sull'animale e lo tagliò in fretta dal lano fino all'estremità della macella inferiore poi posò il coltello e lo sventrò con la mano destra raschiandolo per pulirlo e sgombrandogli le branchie sentì la pancia pesante e sdrucciolevole tra le mani e la spaccò vi erano due pesci volanti dentro freschi e sodi e riposò uno accanto all'altro e gettò gli intestini e le branchie in mare affondarono lasciando nell'acqua una trazza fosforescente il delfino era freddo e di un bianco grigiastro dallebroso ora sotto la luce delle stelle e il vecchio gli scuoiò in fianco tenendogli il piede destro sulla testa poi lo rivoltò e scuoiò l'altro fianco e tagliò i due fianchi dalla testa alla coda fece scivolare la carcassa in mare e guardò per vedere se vi fosse qualche mulinello nell'acqua ma vi fu soltanto la luce della lenta discesa allora si voltò e pose i due pesci volanti tra i due filetti di pesce e dopo aver rimesso il coltello nella guaina tornò lentamente a prua aveva la schiena curva sotto il peso della lenza e reggeva il pesce con la mano destra ritornato a prua posò i due filetti di pesce sul legno con i pesci volanti accanto poi si sistemò la lenza sulle spalle in un punto nuovo e tornò a reggerla appoggiando la mano sinistra sul bordo della barca esporse verso l'acqua e lavò il pesce volante osservando la velocità dell'acqua contro la mano la mano era fosforescente per aver scuoiato il delfino e il vecchio osservò l'acqua che vi scorreva sopra l'acqua era più lenta e quando il vecchio strofinò il fianco della mano contro il fasciame della barca qualche particella di fosforo si staccò e galleggiò lentamente verso poppa si sta stancando o forse sta riposando disse il vecchio ora bisogna che mangi questo delfino sotto le stelle e nella notte che diventava sempre più fredda mangiò metà di un filetto di delfino e un pesce volante sventrato e senza testa com'è buono il delfino da mangiare cotto disse e com'è cattivo quando è crudo non ritornerà mai più in barca senza sale o arancio se avessi un po' di cervello avrei versato un po' d'acqua sulla prua e asciugando avrebbe fatto il sale pensò ma era quasi il tramonto quando il delfino ha boccato però non mi sono preparato abbastanza ma l'ho masticato bene e non sono nauseato il cielo si stava annuvolando verso est e l'una dopo l'altra tutte le stelle note scomparvero pareva adesso che il vecchio procedesse in un gran canyon di nuvole e il vento era calato fra tre o quattro giorni sarà cattivo tempo disse ma domani o dopo domani non ancora equipaggiati adesso per dormire vecchio finché il pesce è calmo e tranquillo tenne la lenza tesa nella mano destra e poi spinse la coscia contro la mano destra mentre appoggiava tutto il peso contro il legno della prua poi fece passare la lenza un po' più in basso sulle spalle e la strinse con la mano sinistra la mano destra resisterà finché è sorretta pensò se nel sonno si abbandona la mano sinistra mi sveglierà quando la lenza incomincerà a svolgersi è dura per la mano destra ma lei è abituata a soffrire anche se dormo venti minuti o mezz'ora non importa si distese in avanti rannicchiandosi contro la lenza con tutto il corpo appoggiando tutto il peso alla mano destra e si addormentò non sognò i leoni ma una gran scuola di focene che si stendevano per 8 o 10 miglia ed era il periodo del loro accoppiamento e balzavano alte nell'aria e si rituffavano in acqua prima che questa si fosse rinchiusa sul loro salto poi sognò di essere al villaggio nel suo letto e c'era la tramontana e faceva molto freddo e gli si era addormentato il brazzo destro perché la testa vi si era appoggiata usandolo da cuscino poi incominciò a sognare la lunga spiaggia gialla e vide il primo leone giungervi sul fare del buio poi giunsero gli altri leoni e lui stava col mento sul legno della prua dove la nave giaceva ancorata sotto il vento serale che veniva dal mare e aspettava di vedere se sarebbero venuti altri leoni ed era felice la luna si era elevata da un pezzo ma il vecchio continuò a dormire e il pesce continuò a tirare con regolarità e la barca procedette nella galleria di nuvole si svegliò al sobbalzo del pugno destro che lo colpì in faccia mentre la lenza si svolgeva scottante nella mano destra non aveva sensibilità nella mano sinistra ma frenò più che poté con la destra e la lenza filò via in fretta finalmente la mano sinistra trovò la lenza e il vecchio si fece forza contro la lenza che ora gli scottò la schiena e la mano sinistra e la mano sinistra resse tutto il peso che le produsse un taglio profondo il vecchio si voltò a guardare le duglie che si svolgevano dolcemente proprio in quel momento il pesce saltò in una grande esplosione d'acqua e poi ricadde pesante poi tornò a saltare più e più volte e la barca andava veloce nonostante la lenza che continuava a svolgersi e il vecchio continuava a portare la tensione al punto massimo era stato tirato giù contro la prua con la faccia nella fetta di delfino e non si poteva muovere è questo che stavamo aspettando pensò dunque ora godiamocelo fagliela pagare la lenza pensò se vuole più lenza fagliela pagare non vedeva i salti del pesce ma odiva il fendersi dell'oceano e il tonfo del pesce quando cadeva la velocità della lenza gli faceva tagli profondi nelle mani ma lui aveva sempre saputo che questo sarebbe successo e si sforzò di esporre ai tagli le parti callose e di non lasciar scivolare la lenza sul palmo della mano e di non tagliarsi le dita se ci fosse il ragazzo bagnerebbe le duglie pensò si se ci fosse il ragazzo se ci fosse il ragazzo la lenza continuò a svolgersi e svolgersi e svolgersi ma ora stava rallentando e il vecchio costringeva il pesce a conquistarsene ogni centimetro ora alzò la testa dal legno fuori dalla fetta di pesce dove gli era affondata la guanza poi si alzò in ginocchio poi si alzò lentamente in piedi continuava a lasciar scorrere la lenza ma sempre più lentamente si sforzò di andare indietro fin dove potesse sentire col piede le duglie che non riusciva a vedere vi era ancora molta lenza e ora il pesce doveva tirare l'attrito di tutta la lenza nuova nell'acqua sì pensò e ora ha già fatto più di una decina di balzi e si è riempito d'acqua le sacche della schiena e non può andare a morire a fondo senza lasciarsi tirare a galla presto incomincerà a ruotare e allora devo mettermi al lavoro chissà cosa è stato a farlo balzare così d'improvviso che sia stata la fame a renderlo così disperato o che l'abbia spaventato qualcosa nella notte forse ha provato una paura improvvisa ma era un pesce così calmo forte e pareva così pieno di coraggio e di fiducia è strano è meglio che pensi tu ad avere coraggio e fiducia vecchio disse lo stai tenendo di nuovo ma non riesci a recuperare la lenza presto deve mettersi a ruotare il vecchio ora lo teneva con la mano sinistra e con le spalle e si colvò a raccogliere un po' d'acqua nella mano destra per togliersi dalla faccia la carne schiacciata del delfino aveva paura che potesse far di venire nausea e allora avrebbe vomitato e avrebbe perso le forze quando si fu pulito la faccia si lavò la mano destra nell'acqua e poi la lasciò nell'acqua assalata mentre guardava spuntare la prima luce che precede l'alba è diretto quasi verso est pensò questo significa che è stanco e segue la corrente presto dovrà mettersi a ruotare allora incomincia il lavoro vero quando decise che la mano destra era rimasta abbastanza nell'acqua la tirò fuori e la guardò non va così male disse e il dolore non deve avere importanza per un uomo impugnò la lenza con cautela in modo che non si incastrasse nei tagli recenti e spostò il peso in modo da poter immergere nel mare la mano sinistra dall'altro lato della barca non te la sei cavata tanto male per essere quel che sei disse alla mano sinistra ma c'è stato un momento che non sono riuscito a trovarti perché non sono nato con due mani buone pensò forse è colpa mia che questa non l'ho addestrata bene ma Dio sa che ha avuto abbastanza occasioni per imparare durante la notte però non è andata tanto male e il crampo le è venuto una volta soltanto se le ritorna il crampo la lascio tagliar via dalla lenza poi pensò che si accorgeva di non essere più lucido e pensò che doveva mangiare ancora un po' di delfino ma non posso si disse è meglio essere stordito che perdere la forza per la nausea e so che non potrei evitarla se mangio perché vi ho tenuto dentro la faccia lo conserverò in caso di bisogno finché diventa cattivo ma è troppo tardi per cercar di acquistar forza nutriendomi che stupido si disse mangia dell'altro pesce volante era lì pulito e pronto e il vecchio lo prese con la mano sinistra e lo mangiò masticando con cautela le ossa e mangiandolo tutto fino alla coda è più nutriente di qualunque altro pesce pensò almeno del genere di nutrimento di cui ho bisogno ora ho fatto quello che potevo pensò si metta pure a girare e incominci pure la lotta quando il pesce incominciò a girare il sole stava levando per la terza volta da quando il vecchio aveva preso il mare non fu dall'inclinazione della lenza che il vecchio si accorse che il pesce stava girando era troppo presto per questo ma sentì che la pressione della lenza diminuiva lievemente e incominciò a tirarla piano con la mano destra si irrigidì come prima ma proprio quando giunse al punto in cui avrebbe potuto spezzarsi incominciò a cedere il vecchio fece passare le spalle e la testa sotto la lenza e incominciò a tirarla con regolarità e cautela usò tutte e due le mani in un movimento oscillante e cercò di tirare più che poteva col corpo e con le gambe le vecchie gambe e le vecchie spalle ruotarono nell'oscillazione è un giro molto largo disse ma sta girando poi la lenza non cedette più e il vecchio la tenne finché ne vide schizzar fuori le gocce sotto il sole poi ripartì e il vecchio si inginocchiò e la lasciò ritornare nell'acqua buia è nel punto più lontano del giro disse devo ottenerlo più che posso lo sforzo gli accorcerà sempre di più il giro forse tra un'ora riesco a vederlo ora devo domarlo e poi devo ucciderlo ma il pesce continuò a girare lentamente e due ore dopo il vecchio era bagnato di sudore e aveva le ossa molto stanche ma ora i giri erano molto più stretti e dall'inclinazione della lenza si capiva che il pesce era salito con regolarità mentre nuotava da un'ora il vecchio vedeva macchie nere davanti agli occhi e il sudore gli copriva di sale gli occhi e gli copriva di sale la ferita sull'occhio e sulla fronte non aveva paura delle macchie nere erano normali data la tensione a cui stava sottoponendo la corda però due volte si era sentito debole e gli era venuto il capogiro e questo lo aveva preoccupato non posso tradire me stesso e morire con un pesce come questo disse ora che sta venendo così bene Dio mi aiuti a resistere dirò cento paternostere cento avemarie ma non posso dirle adesso considerale come dette pensò le dirò più tardi proprio in quel momento sentì sobbalzare in uno scrollone improvviso la lenza stretta fra le due mani la lenza era tagliente e dura e pesante sta colpendo il bozzello con la spada pensò c'era da aspettarselo doveva farlo però questo lo farà saltare e ora preferirei che continuasse a girare i salti erano necessari perché aspirasse l'aria ma ora ogni salto gli può allargare l'apertura della ferita dell'amo e farlo liberare dall'amo non saltare pesce disse non saltare il pesce colpì parecchi altre volte il bozzello e ogni volta che scrollò la testa il vecchio gli lasciò un po' di lenza non devo fargli aumentare il dolore pensò il mio non importa posso controllarlo ma il suo dolore può farlo diventare matto dopo un po' il pesce smise di battere il bozzello e cominciò a girare lentamente il vecchio ora recuperava con regolarità la lenza ma si sentiva di nuovo debole prese un po' d'acqua di mare con la mano sinistra e se la mise sulla testa poi ne prese ancora un po' e si stropicciò la nuca no no crampi disse tra poco sarà qui ce la farò devo farcela non se ne parla neanche si inginocchiò contro la prua e per il momento si fece passare di nuovo la lenza sulla schiena ora mi riposo mentre allarga il giro e poi mi alzo e lo lavoro mentre si avvicina decise era una gran tentazione quella di riposarsi a prua e lasciare che il pesce facesse un giro da sé senza recuperare la lenza ma quando la tensione rivelò che il pesce aveva svoltato per dirigersi verso la barca il vecchio si alzò in piedi e incominciò le rotazioni e le oscillazioni che riportarono sulla barca tutta la lenza recuperata sono più stanco di quanto lo sia mai stato pensò e ora si alza l'ariseo ma questo sarà utile per farlo accostare ne ho molto bisogno mi riposerò al prossimo giro mentre si allontana si disse mi sento molto meglio poi in altre due o tre svolte sarà finita il cappello di paglia gli era caduto in basso sulla nuca e il vecchio si lasciò sprofondare a prua sotto la spinta della lenza mentre sentiva girare il pesce ora lavora pesce pensò ti prenderò alla svolta il mare si era alzato parecchio ma c'era un'aria da bel tempo e il vecchio ne aveva bisogno per ritornare a casa basterà che mi diriga a sud e a ovest disse non ci si perde mai in mare e l'isola è lunga fu alla terza svolta che vide il pesce per la prima volta lo vide dapprima come un'ombra scura che impiegò tanto tempo a passare sotto la barca da non far credere al vecchio che potesse essere tanto lunga no disse non può essere così grosso ma lo era così grosso e alla fine del giro salì alla superficie con 30 metri soltanto di distanza e il vecchio gli vide la coda fuori dell'acqua era più alta della lama di una grossa falce e di un color lavanda molto pallido sull'acqua azzurro scuro tornò ad immergersi e mentre il pesce nuotava poco sotto la superficie il vecchio vide la mole enorme e le strisce viola che lo cingevano la pinna dorsale era abbassata e quelle pettorali enormi erano spalancate in questo giro il vecchio riuscì a vedere l'occhio del pesce e le due remore grigie che gli nuotavano attorno a volte gli si attaccavano addosso a volte si scostavano a volte nuotavano disinvolte nella sua ombra erano tutte e due lunghe quasi un metro e quando nuotavano in fretta sfrecciavano il corpo come anguille il vecchio rassudava per qualcosa che non era soltanto il sole ad ogni svolta calma l'acida del pesce recuperava la lenza ed era certo che in altre due svolte sarebbe riuscito a lanciare la fiocina ma devo farlo venire vicino 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 pensò non devo mirare alla testa devo prendere il cuore si calmo e forte vecchio disse al giro successivo la schiena del pesce si scoprì ed era un po' troppo lontano dalla barca al giro successivo era ancora troppo lontano ma era più scoperto e il vecchio era certo che recuperando ancora un po' di lenza l'avrebbe avuto vicino aveva attrezzato la fiocina da molto tempo e la duglia di sagola leggera era in una cesta rotonda e l'estremità era data di volta sulla vitta della prua il pesce ora si avvicinava nel suo giro calmo e bello e muoveva soltanto la grande coda il vecchio tirò più che poté per avvicinarlo per un attimo il pesce si piegò un poco sul fianco poi si raddrizzò e cominciò un altro giro l'ho fatto muovere disse il vecchio allora l'ho fatto muovere si sentì di nuovo debole ora ma mantenne sul grande pesce tutta la tensione che poté l'ho fatto muovere pensò forse questa volta riesco a prenderlo tirate mani pensò forza gambe resisti per me testa resisti per me non mi ha mai lasciato questa volta lo prendo ma quando sferrò il suo attacco iniziandolo un bel tratto prima che il pesce si avvicinasse e tirando con tutta la sua forza il pesce si piegò un poco e poi si raddrizzò e si allontanò pesce disse il vecchio pesce dovrai pur morire in ogni caso vuoi uccidere anche me così non si combina niente pensò aveva la bocca troppo asciutta per parlare ma ora non riusciva ad arrivare a prendere la bottiglia dell'acqua devo farlo venire vicino questa volta pensò non ce la farò con molte altre svolte sì ce la farai disse a se stesso ce la farai sempre alla prossima svolta l'aveva quasi preso ma di nuovo il pesce si rizzò e si allontanò lentamente mi stai uccidendo pesce pensò il vecchio ma hai il diritto di farlo non ho mai visto nulla di grande e bello e calmo e nobile come te fratello vieni a uccidermi non importa chi sarà a uccidere l'altro ora stai perdendo la testa pensò devi tenere la testa lucida tieni la testa lucida e fa vedere come sa soffrire un uomo o un pesce pensò ritorna in te disse con una voce che riuscì a udire soltanto a stento ritorna in te altre due volte avvenne lo stesso alle svolte del pesce non lo so pensò il vecchio ogni volta era stato sul punto di sentirsi svenire non lo so ma tenterò ancora una volta tentò ancora una volta e quando voltò il pesce si sentì svenire il pesce si raddrizzò e si allontanò lentamente sventolando in aria la grande coda tenterò di nuovo promise il vecchio nonostante adesso le mani fossero molli e gli occhi vedessero soltanto tra i lampi tentò di nuovo e accadde lo stesso ecco pensò e si sentì svenire prima di cominciare tenterò di nuovo raccolse tutto il dolore e ciò che gli restava della sua forza e dell'orgoglio da tanto tempo sopito e lo pose contro l'agonia del pesce e il pesce si accostò al suo fianco e nuotò con garbo sul fianco sfiorando quasi col rostro il fasciame della barca e si avviò ad oltrepassarla lungo profondo largo argenteo estriato di viola interminabile nell'acqua il vecchio lasciò cadere la lenza e vi posò sopra il piede e alzò la fiocina più alta che poté e la lanciò con tutta la sua forza e la nuova forza che aveva allora trovato nel fianco del pesce dietro alla grande pinna pettorale che si alzava nell'aria giungendo all'altezza del petto dell'uomo sentì il ferro conficcarsi e vi si appoggiò sopra e lo immerse più profondamente e poi lo spinse con tutto il peso del suo corpo allora il pesce tornò in vita recando in sé la sua morte e si librò alto fuori dell'acqua mostrando tutta la grande lunghezza e larghezza e tutta la sua forza e la sua bellezza parve restare sospeso nell'aria sul vecchio nella barca poi precipitò in acqua in un crollo che coprì di spuma il vecchio e tutta la barca il vecchio si sentiva debole e nauseato e non riusciva a vedere ma districò la lenza della fiocina e la lasciò scorrere lentamente tra le mani sanguinanti e quando riuscì a vedere vide che il pesce era sul dorso con la pancia argentea riversa l'asta della fiocina sporgeva dalla spalla del pesce formando un angolo e il mare si colorava del sangue rosso che scorgava dal cuore dapprima fu scuro come una secca nell'acqua azzurra che era profonda più di un miglio poi si allargò come una nube il pesce era argente o immobile e fluttuava con le onde il vecchio guardò attentamente con quel po' di vista che gli restava poi diede doppia volta dalla lenza della fiocina sulla bitta a prua e si prese la testa fra le mani tieni la testa lucida disse appoggiandosi al legno a prua sono un vecchio stanco ho ucciso questo pesce che è mio fratello e ora devo fare il lavoro da schiavo ora devo preparare la gassa e il cavo per attraccarlo alla barca pensò anche se fossimo in due e perissarlo a bordo la barca si riempisse d'acqua e dopo la si dovesse sgotare il pesce non ci starebbe dentro devo preparare tutto poi avvicinarlo attraccarlo bene e armare l'albero e salpare verso terra incominciò a tirare il pesce per metterlo affiancato alla barca in modo da poter passare una lenza attraverso le branchie e la bocca e legargli la testa alla prua voglio vederlo pensò e toccarlo e sentirlo è la mia fortuna pensò ma non è per questo che voglio sentirlo credo di aver già sentito il suo cuore pensò quando spinto l'asta della fiocina la seconda volta ora accostalo e legalo e passagli la gassa sulla coda e un'altra sulla pancia per fissarlo alla barca al lavoro vecchio disse beve un sorso molto piccolo d'acqua c'è molto lavoro da schiavo da fare ora che la lotta è finita alzò gli occhi a guardare il cielo e poi li abbassò sul suo pesce guardò il sole attentamente non è passato da molto il mezzogiorno pensò e l'aliseo si sta alzando ormai le lenzie non hanno più importanza il ragazzo e io le impiomberemo a casa su pesce disse ma il pesce non venne invece rimase disteso rollando nel mare e il vecchio gli si accostò con la barca quando fu alla stessa altezza del pesce e ne ebbe appoggiato la testa alla prua non pote credere che fosse così grosso ma slegò il cavo della fiocina dalla bitta lo passò attraverso le branchie del pesce facendoglielo uscire dalla macella lo fece girare una volta attorno alla spada poi infilò il cavo nell'altra branchia fece un altro giro intorno al rostro e annodò il doppio cavo e gli diede volta sulla bitta a prua poi tagliò il cavo e andò a poppa a fissare la coda il pesce era diventato d'argento da argento e viola che era e le strisce avevano lo stesso color violetto pallido della coda erano più larghe di una mano d'uomo tenuta a dita distese e l'occhio del pesce pareva staccato come gli specchi in un periscopio o un santo in una processione era l'unico modo per ucciderlo disse il vecchio si sentiva meglio dopo aver bevuto e sapeva che non sarebbe svenuto e aveva la testa lucida pesa quasi sette quintali così com'è pensò forse di più e se riuscisse a ricavarne i due terzi a sessanta cent al chilo ho bisogno di una matita per fare il conto disse non ho la testa abbastanza lucida ma credo che il grande di maggio sarebbe orgoglioso di me oggi non avevo il soprosso le mie mani e la schiena mi fanno male davvero chissà che cos'è un soprosso pensò forse l'abbiamo tutti senza saperlo legò il pesce a prua e a poppa e al banco centrale era così grosso che fu come legare una barca più grossa affiancandola alla sua tagliò un pezzo di lenza e legò la mandibola inferiore del pesce al rostro in modo che non gli si aprisse la bocca e potessero navigare nel migliore dei modi poi armò l'albero e la vela rattoppata si rizzò la barca si mise in moto e mezzo sdraiato a poppa il vecchio salpò in direzione sud ovest non aveva bisogno di una bussola per sapere dov'era il sud ovest aveva bisogno soltanto di sentire l'aliseo e la pressione della vela bisognerà che metta in acqua una lenza con un amo a cucchiaio per cercare di procurarmi qualcosa da mangiare e da succhiare ma non riuscì a trovare il cucchiaio e le sardine erano marce così prese con la gaffa un po' di alghe gialle mentre passavano e le scrollò in modo che i gamberetti che vi erano attaccati cadessero sul fasciame della barca ve ne erano più di dodici e saltarono scalciando come pulci di mare il vecchio staccò loro la testa con il pollice e l'indice e li mangiò masticando il guscio e la coda erano molto minuscoli ma sapeva che erano nutrienti e avevano un buon sapore il vecchio aveva ancora due sorsi d'acqua nella bottiglia e ne beve mezzo sorso dopo aver mangiato i gamberetti la barca procedeva bene tenuto conto del carico e il vecchio la pilotava tenendo la barra del timone sotto il braccio vedeva il pesce e gli bastava guardarsi le mani e sentirsi la schiena contro la poppa per sapere che tutto era veramente avvenuto e non era un sogno una volta quando verso la fine stava così male aveva pensato che forse era un sogno poi quando aveva visto il pesce uscire dall'acqua e restare sospeso immobile nel cielo prima di cadere era stato certo che qualcosa di molto strano stava succedendo e non poteva crederci poi non aveva più veduto distintamente anche se ora vedeva di nuovo come sempre ora sapeva che c'era il pesce e le mani e la schiena non erano un sogno le mani guariscono in fretta pensò ho fatto uscire il sangue vivo e l'acqua salata le curerà l'acqua scura del vero golfo è il più grande medico che esista la sola cosa che devo fare è di conservare la mente lucida le mani hanno fatto il loro dovere e navighiamo bene con la bocca chiusa e la coda ritta navighiamo come fratelli poi la mente cominciò a confondersi un poco e il vecchio pensò è lui che porta me o sono io che porto lui se lo rimorchiassi a poppa non ci sarebbero dubbi neanche se il pesce fosse sulla barca senza più dignità ci sarebbero dubbi ma stavano navigando insieme legati a fianco a fianco e il vecchio pensava sia pure lui che porta me se gli fa piacere ho vinto io soltanto con l'inganno e lui non voleva farmi del male navigavano bene e il vecchio immerse le mani nell'acqua assalata e cercò di conservare la mente lucida vi erano alti cumuli di nubi e abbastanza cirri sopra di essi per cui il vecchio sapeva che il vento sarebbe durato tutta la notte il vecchio guardava continuamente il pesce per essere certo che fosse vero passò un'ora prima che il primo pesce cane lo azzannasse il pesce cane non fu un caso era salito dal fondo del mare quando la nube scura di sangue si era allargata e dispersa nel mare profondo un miglio era salito così in fretta e con così assoluta mancanza di cautela che aveva aperto la superficie dell'acqua azzurra e si era esposto al sole poi era ricaduto in mare e aveva trovato la scia e aveva incominciato a nuotare nella direzione tenuta dalla barca e dal pesce a volte perdeva la scia ma la ritrovava sempre o almeno ne trovava le tracce e nuotava veloce e resistente nella direzione giusta era un grossissimo pesce cane macò fatto per nuotare veloce come il pesce più veloce del mare ed era bello in ogni sua parte tranne nelle macelle la schiena era azzurra come quella di un pesce spada e la pancia era argentea e la pelle era liscia ed elegante aveva le forme di un pesce spada a parte le macelle enormi serrate adesso che nuotava in fretta appena sotto la superficie con l'alta pinna dorsale che fendeva l'acqua senza vibrazioni dentro il doppio labbro chiuso dalle macelle tutte le otto fila di denti erano inclinate verso l'interno non avevano la solita forma piramidale che hanno i denti di quasi tutti i pesce cani avevano la forma di dita umane contorte come artigli erano lunghi quasi come le dita del vecchio e avevano bordi taglienti affilati come rasoi su tutti i due lati questo era un pesce fatto per nutrirsi di tutti i pesci del mare tanto veloci e forti e ben armati da non conoscere altri nemici ora all'odore più fresco della scia accelerò l'andatura e l'azzurra pinna dorsale fende l'acqua quando il vecchio lo vide giungere capì che questo era un pesce cane e non aveva la minima paura e avrebbe fatto esattamente tutto quello che voleva preparò la fiocina e diede di volta alla sagola mentre osservava il pesce cane avvicinarsi la sagola era corta perché mancava il pezzo tagliato per legare il pesce il vecchio ora aveva la mente lucida pronta ed era ben deciso ma aveva poca speranza era troppo bello per durare pensò ed è un'altra occhiata al grande pesce mentre guardava il pesce cane che si avvicinava potrebbe anche essere stato un sogno pensò non posso impedirgli di colpirmi ma forse riesco a prenderlo dentuso pensò maledetta tua madre il pesce cane si accostò alla poppa e quando lo colpì il vecchio vide la bocca che si apriva e gli strani occhi e il colpo tintinnante dei denti quando si immersero nella carne poco sopra la coda la testa del pesce cane era fuori dell'acqua e la schiena ne sporgeva e il vecchio udì il rumore della pelle e della carne che si lacerava nel grosso pesce quando scagliò la fiocina nella testa del pesce cane in un punto in cui la linea tra gli occhi si intersecava con la linea che gli saliva dal naso queste linee non esistevano esistevano soltanto la pesante affilata testa azzurra e i grandi occhi e le tintinnanti macelle sporgenti che inghiottivano ogni cosa ma quello era il punto in cui si trovava il cervello e il vecchio lo colpì lo colpì con le sanguinanti mani molli lanciando una buona fiocina con tutta la sua forza colpì senza speranza ma con decisione e totale malevolenza il pesce cane si rivoltò e mostrò al vecchio l'occhio senza vita e poi si rivoltò di nuovo avvolgendosi in due giri di sagola il vecchio sapeva che era condannato ma non si sarebbe rassegnato poi rivoltato sulla schiena con la coda sferzante e le macelle tintinnanti il pesce cane sbatte l'acqua come un motoscafo l'acqua era bianca sotto i colpi della coda e per tre quarti il corpo era visibile sull'acqua quando la sagola si tese vibrò e si spezzò il pesce cane rimase disteso un momento sulla superficie e il vecchio lo guardò poi affondò lentamente gli ha portato via quasi venti chili disse il vecchio ad alta voce gli ha portato via anche la fiocina e tutta la sagola pensò e ora il mio pesce perde di nuovo sangue e ne verranno degli altri non gli piaceva più guardare il pesce da quando questo era stato mutilato quando il pesce era stato colpito fu come se fosse andato colpito lui stesso ma ho ucciso il pesce cane che ha colpito il mio pesce pensò ed era il dentuso più grosso che abbia mai visto e Dio sa se ne ho visto dei grossi era troppo bello per durare pensò ora vorrei che fosse stato un sogno e che non avessi preso il pesce e fossi solo nel mio letto coi giornali ma l'uomo non è fatto per la sconfitta disse l'uomo può essere ucciso ma non sconfitto però mi dispiace di aver ucciso questo pesce pensò ora comincia il brutto e non ho neanche la fiocina il dentuso è crudele è capace è forte è intelligente ma io sono stato più intelligente di lui forse no pensò forse ero soltanto armato meglio non pensare vecchio disse ad alta voce naviga in questa direzione e preparati a quel che avverrà ma non posso non pensare pensò perché non mi resta altro questo è il baseball chissà che sarebbe piaciuto al grande di maggio il modo come l'ho colpito nel cervello non è stata una gran cosa pensò chiunque avrebbe potuto farlo ma credi che le mie mani fossero un handicap importante come il soprosso non saprei dire non ho mai avuto niente di male ai calcagni tranne quella volta quando la pastinaca mi ha appunto quando le sono passato addosso nuotando e mi ha paralizzato dal ginocchio in giù e mi ha fatto un male insopportabile pensa a qualcosa di allegro vecchio disse ogni minuto che passa sei più vicino a casa vai più in fretta ora che hai perso venti chili sapeva benissimo ciò che sarebbe successo quando fosse giunto nella parte più interna della corrente ma non c'era niente da fare per il momento sì c'è qualcosa sì c'è qualche cosa disse ad alta voce posso legare il coltello all'impugnatura di un remo così fece tenendosi la barra del timone sotto il braccio e la draglia della vela sotto il piede ecco disse sono ancora vecchio ma non sono disarmato ora il vento era fresco e la barca procedeva bene il vecchio guardava soltanto la parte anteriore del pesce e gli ritornò qualche speranza è stupido non sperare pensò e credo sia peccato non pensare ai peccati pensò ci sono abbastanza problemi adesso senza i peccati e poi non riesco a capirli non riesco a capirli e non sono certo di credervi forse è stato un peccato uccidere il pesce credo proprio che sia così anche se l'ho fatto per vivere e per nutrire molta gente ma allora tutto è un peccato non pensare ai peccati è troppo tardi per pensarci e c'è chi è pagato apposta per farlo lascia che ci pensino loro tu sei nato per fare il pescatore e il pesce è nato per fare il pesce San Pedro era un pescatore e anche il padre del grande di maggio ma gli piaceva pensare a tutte le cose che gli capitavano e poiché non c'era niente da leggere e non aveva la radio pensò molto e continuò a pensare al peccato non hai ucciso il pesce soltanto per vivere e per venderlo come cibo pensò ma l'hai ucciso per orgoglio e perché sei un pescatore gli volevi bene quando era vivo e gli hai voluto bene dopo se gli si vuol bene non è un peccato ucciderlo o lo è ancora di più tu pensi troppo vecchio disse ad alta voce ma ti ha fatto piacere uccidere il dentuso pensò vive sui pesci vivi come te non è soltanto un divoratore di cadaveri o un mangiatutto come certi pescecani è bello è nobile e non conosce paura di nulla l'ha ucciso per autodifesa disse il vecchio ad alta voce e l'ho ucciso bene e poi pensò tutti uccidono tutti gli altri in un modo o nell'altro la pesca mi uccide proprio come mi dà da vivere è il ragazzo a darmi da vivere pensò non devo esagerare a ingannare me stesso si sporse dal fianco della barca e staccò un pezzo di carne dal pesce nel punto in cui il pesce cane l'aveva azzannato lo masticò e ne apprezzò la qualità e il sapore era sodo e sugoso come l'altra carne ma non era rosso non era coriaceo e sapeva che se ne sarebbe ricavato il prezzo più alto sul mercato ma non vi era modo di tenere la scia fuori dell'acqua e il vecchio sapeva che stava per giungere un momento molto brutto il vento era regolare aveva piegato un poco più verso nord est e il vecchio sapeva che questo significava che non sarebbe cessato il vecchio guardava davanti a sé ma non riuscì a scorgere le vele e riuscì a scorgere scafo o fumo di qualche nave vi erano soltanto i pesci volanti che salivano dalla prua volando lungo i due fianchi e le chiazze gialle delle alghe non riuscì a scorgere neanche un uccello era in navigazione da due ore riposando a poppa e masticando ogni tanto un pezzetto di carne del marlin cercando di riposare e di restare forte quando vide uno dei due pescicani ah disse ad alta voce non esiste traduzione per questa parola e forse non è che un rumore come potrebbe emettere involontariamente chi si sentisse trafiggere le mani da un chiodo piantato nel legno galanos disse ad alta voce ora aveva visto la seconda pinna salire dietro alla prima e li aveva identificati dalla bruna pinna triangolare e dai movimenti a sventola della coda avevano trovato la scia ed erano eccitati e nella stupidità della loro grande fame dall'eccitamento continuavano a perdere e ritrovare la scia ma continuavano a stare vicini il vecchio diede volta alla draglia e bloccò la barra del timone poi afferrò il remo sul quale aveva legato il coltello lo sollevò più leggermente che poté perché le mani si ribellarono al dolore poi le aprì e le chiuse leggermente sul remo per scioglierle e li chiuse saldamente in modo che ora accettassero il dolore e non gli venissero meno e osservò i pescecani che si avvicinavano ora poteva vederne la larga testa appiattita appuntita come una pala e le larghe pinne pettorali dalla sommità bianca erano pescicani odiosi puzzolenti divoratori di cadaveri oltre che assassini e quando avevano fame azzannavano un remo o il timone delle barche erano questi pescecani che tagliavano le gambe e le natatoie delle tartarughe quando le tartarughe dormivano alla superficie e azzannavano un uomo in mare se avevano fame anche se l'uomo non aveva addosso odore di sangue di pesce né viscosità di pesce ai disse il vecchio galanos venite galanos vennero ma non vennero come era venuto al macò uno si voltò e scomparve sotto la barca e il vecchio sentì la barca tremare per gli strattoni che diede al pesce l'altro guardò il vecchio dalle fessure degli occhi gialli e poi si avvicinò in fretta col semicerchio delle mandibole spalancate per azzannare il pesce nel punto in cui era stato colpito la linea era chiaramente visibile in cima alla testa bruna e giù dove il cervello si congiungeva al midollo spinale e il vecchio spinse il coltello legato al remo nel punto di congiuntura lo ritirò e tornò a immergerlo negli occhi gialli da gatto dello squalo lo squalo lasciò le prese del pesce e affondò inghiottendo mentre moriva ciò che aveva rubato la barca era ancora scrollata dalla rovina che l'altro squalo stava compiendo sul pesce e il vecchio mollò la draglia in modo che la barca bordeggiando facesse uscire lo squalo da sotto lo scafo quando vide lo squalo si sporse dalla barca e lo colpì colse soltanto la carne e la pelle era dura e il coltello vi penetrò appena la botta non gli fece male soltanto alle mani ma anche alla spalla ma lo squalo salì in fretta scoprendo la testa e il vecchio lo colse esattamente nel centro della testa appiattita nel momento in cui il naso uscì dall'acqua e si posò sul pesce il vecchio ritirò la lama e tornò a colpire lo squalo esattamente nello stesso punto lo squalo rimase attaccato al pesce con le macelle chiuse e il vecchio lo pugnalò nell'occhio sinistro lo squalo continuò a tenere la presa no? disse il vecchio e spinse la lama tra le vertebre e il cervello ora il colpo era facile e sentì la cartilagine che si apriva il vecchio rovesciò il remo e mise la lama tra le macelle dello squalo per aprirle girò la lama e quando lo squalo affondò disse vai pure galano affonda per un miglio va a trovare il tuo amico se non era tua madre il vecchio pulì la lama del coltello e posò il remo poi riprese la draglia e la vela si gonfiò e la barca ritornò nella direzione giusta devono averne preso più di un quarto e della parte migliore disse ad alta voce come vorrei che fosse un sogno e che non avesse mai abboccato perdonami pesce così diventa tutto sbagliato si interruppe e non volle guardare il pesce ora anza sangue risciacquato aveva il colore del fondo d'argento di uno specchio e le strisce continuavano ad essere visibili non avrai dovuto andare così a largo disse né per te né per me perdonami pesce su disse a se stesso guarda la legatura del coltello e vedi che non si sia strappata poi tieni la mano in ordine perché il più deve ancora avvenire avrai bisogno di una pietra per il coltello disse il vecchio dopo aver esaminato la legatura sull'impugnatura del remo avrai dovuto portare una pietra avresti dovuto portare molte cose pensò ma non le hai portate vecchio ora non è il momento di pensare a quello che non hai pensa a quello che puoi fare con quello che hai mi dai un po' troppi buoni consigli disse ad alta voce mi hai seccato tenne la barra del timone sotto il braccio e immerse tutte e due le mani nell'acqua mentre la barca procedeva dio sa quanto ne ha preso quest'ultimo disse ma ora la barca è molto più leggera non voleva pensare alla pancia mutilata del pesce sapeva che ogni strattone dello squalo significava un pezzo di carne strappata e che ora il pesce lasciava nel mare una scia larga come una strada maestra a tutti gli squali era un pesce che bastava mantenere un uomo per tutto l'inverno pensò non ci pensare riposati cerca di tenerti le mani in forma per difendere quanto ne è rimasto l'odore di sangue delle mie mani non importa più ormai con tutta quella scia nell'acqua e poi non sanguinano molto non ci sono tagli profondi può darsi che se mi esce sangue non mi venga il crampo a che cosa posso pensare adesso pensò a niente non devo pensare a niente e aspettare che arrivino i prossimi vorrei proprio che fosse stato un sogno pensò ma chissà avrebbe potuto finire bene il prossimo squalo arrivò era un galano isolato arrivò come un maiale al truogolo se un maiale avesse una bocca così grande da potervi mettere dentro una testa d'uomo il vecchio lasciò che azzannasse il pesce e poi gli immerse a fondo nel cervello il coltello legato al remo ma lo squalo fece un balzo all'indietro mentre si girava e la lama del coltello si spaccò il vecchio si rimise al timone non guardò neanche il grosso squalo che affondava lentamente nell'acqua mostrandosi prima a grandezza naturale poi piccolo poi minuscolo era una cosa che affascinava sempre il vecchio ma ora non lo guardò neanche ho ancora la gaffa disse ma non servirà niente ho due remi e la barra del timone e la mazza ormai hanno vinto loro pensò sono troppo vecchio per uccidere squali ammazzate ma cercherò di farlo finché avrò i remi e la mazza e la barra del timone immerse le mani nell'acqua per bagnarle era pomeriggio avanzato e non si vedeva che il mare e il cielo nel cielo vi era più vento di prima e il vecchio sperò di veder presto terra è stanco vecchio disse è stanco dentro gli squali non lo azzannarono più fino al tramonto il vecchio vide le pinne brune seguire la vasta scia che il pesce doveva aver fatto nell'acqua non induciarono neanche sulla scia puntavano direttamente sulla barca nuotando l'uno accanto all'altro il vecchio bloccò la barra del timone di adevolta alla draglia e si allungò a poppa a cercare la mazza era l'impugnatura di un remo spezzato segata a un'ottantina di centimetri di lunghezza poteva venire usata con efficacia con una mano sola a causa della forma dell'impugnatura e il vecchio la ferrò con la mano destra flettendovi sopra la mano mentre guardava gli squali che si avvicinavano erano tutti e due galanos devo lasciare che il primo si attacchi e poi colpirlo sulla punta del naso o proprio in cima alla testa pensò i due squali si accostarono insieme e quando vide quello più vicino aprire le macelle e affondarle nel fianco argenteo del pesce il vecchio levò alta la mazza e la batte pesante picchiando sulla testa dello squalo sentì la solidità elastica quando vi calò la mazza ma sentì anche la rigidità dell'osso e colpì di nuovo forte sul muso lo squalo mentre questo si staccava scivolando dal pesce l'altro squalo si era allontanato e ora si riaccostò con le macelle spalancate il vecchio vide qualche pezzetto della carne del pesce sporgere bianca dall'angolo delle macelle dello squalo quando questo azzannò il pesce e chiuse le macelle il vecchio si voltò verso di lui e colpì soltanto la testa e lo squalo lo guardò e strappò il pezzo di carne il vecchio gli abbatté di nuovo addosso la mazza mentre si staccava per inghiottire e colpì soltanto la pesante solida elasticità su galano disse il vecchio ricomincia lo squalo si accostò con violenza e il vecchio lo colpì mentre chiudeva le macelle lo colpì con solidità e da tutta l'altezza cui riuscì ad alzare la mazza questa volta sentì l'osso alla base del cervello e tornò a colpire nello stesso punto mentre lo squalo strappava la carne lentamente e si staccava scivolando dal pesce il vecchio attese che ritornasse ma nessuno dei due squali si mostrò poi ne vide uno che nuotava a cerchi sulla superficie non vide la pinna dell'altro non potevo aspettarmi di ucciderli pensò avrei potuto farlo ai miei tempi ma li ho feriti tutte e due gravemente e nell'uno nell'altro deve sentirsi molto bene se avessi potuto usare una mazza a due mani il primo l'avrei ucciso di sicuro anche adesso pensò non volle guardare il pesce sapeva che una metana era stata distrutta mentre combatteva con gli squali il sole era tramontato presto sarà buio disse allora dovrai vedere le luci di Havana se sono troppo est vedrò le luci di una delle spiagge nuove non posso essere tanto allargo adesso pensò spero che nessuno sia stato in pensiero per me naturalmente c'è soltanto il ragazzo a stare in pensiero ma sono certo che ha avuto fiducia qualche vecchio pescatore sarà in pensiero anche molti altri pensò la mia città è buona non poteva più parlare col pesce perché il pesce era stato troppo mutilato poi gli venne qualcosa in mente mezzo pesce disse tu che sei stato un pesce perdonami di essere andato troppo a largo ho mandato in malora tutti e due ma abbiamo ucciso molti squali tu ed io e ne abbiamo mandato in malora molti altri quanti ne hai uccisi tu vecchio pesce non hai certo quella spada sulla testa per niente gli piaceva pensare al pesce e a ciò che avrebbe potuto fare a uno squalo se avesse potuto nuotare avrei dovuto staccargli il rostro per combattere contro di loro pensò ma non c'era una scura e non c'era un coltello ma se l'avessi e avessi potuto legarlo all'impugnatura di un remo che arma allora avremmo potuto combattere insieme che cosa farai adesso se vengono durante la notte che cosa puoi fare combatterli disse li combatterò fino alla morte ma ora nel buio e senza luce in vista e senza chiarori e soltanto col vento e la spinta regolare della vela mi parve di essere già morto forse congiunse le mani e si tastò le palme non erano morte e gli bastava aprirle e chiuderle per risuscitare il dolore della vita appoggiò la schiena a poppa e capì che non era morto glielo dissero le spalle devo dire tutte quelle preghiere che ho promesso se riuscivo a prendere il pesce pensò ma sono troppo stanco per dirle adesso è meglio che mi metta il sacco sulle spalle si distese a poppa e girò il timone e cercò il chiarore che doveva apparirgli nel cielo ne ho una metà pensò forse avrò la fortuna di portare a casa la metà anteriore devo avere anch'io un po' di fortuna no disse hai violato la tua fortuna quando sei andato troppo a largo non fare lo stupido disse ad alta voce e resta sveglio a badare al timone può darsi che tu abbia ancora molta fortuna mi piacerebbe comprarne un po' se c'è qualche posto dove la vendono disse con che cosa potrei comprarla si chiese potrei comprarla con una fiocina perduta e un coltello rotto e le due mani ferite forse disse hai cercato di comprarla con 84 giorni di mare e quasi te l'avevano venduta bisogna che non pensi sciocchezze pensò la fortuna è una cosa che viene in molte forme e chi sa riconoscerla però ne comprerei un po' in qualsiasi forma e pagherei quel che mi chiedono come vorrei vedere il riflesso delle luci pensò vorrei troppe cose ma questa è la cosa che vorrei adesso cercò di sistemarsi più comodamente al timone e dal dolore capì che non era morto vide il riflesso delle luci della città quando avrebbero dovuto essere le dieci di quella sera da prima erano visibili soltanto come la luce del cielo prima che si levi la luna poi si videro chiaramente attraverso l'oceano increspato adesso da una brezza crescente girò il timone in direzione della luce e pensò che presto ormai sarebbe giunto al limite della corrente ormai è finita pensò probabilmente mi attaccheranno di nuovo ma che cosa può fare contro di loro un uomo disarmato al buio ora era rigido indolenzito e le ferite e tutte le parti stanche del corpo gli facevano male nel freddo della notte spero di non dover tornare a combattere pensò spero tanto di non dover tornare a combattere ma verso mezzanotte combatté e questa volta sapeva che il combattimento era inutile giunsero in frotta e il vecchio riuscì a vedere soltanto le linee fatte nell'acqua dalle pinne e la loro fosforescenza quando si gettarono sul pesce prese ammazzate le teste e udì le macelle serrarsi la barca scrollata mentre gli squali attaccavano da sotto colpì disperatamente qualcosa che si poteva soltanto sentire e udire e sentì qualcosa impadronirsi della mazza e la mazza scomparve strappò dal timone la barra e cominciò a sferrare mazzate stringendola con tutte e due le mani e abbattendola più volte ma ormai erano già arrivati a prua e si ammassavano l'uno dopo l'altro e tutti insieme e mentre si voltavano per ritornare subito i pezzi di carne strappati si vedevano luminosi sott'acqua alla fine uno giunse alla testa e il vecchio capì che era finita abbatté la barra sulla testa dello squalo mentre le macelle erano serrate nella testa del pesce che non si lasciava staccare colpì una e due e più volte udì la barra che si spezzava e batté lo squalo con l'impugnatura scheggiata la sentì penetrare e sapendo che era tagliente la immerse di nuovo lo squalo lasciò la presa e si staccò rivoltandosi fu l'ultimo squalo della schiera ad avvicinarsi non c'era più niente da mangiare per loro il vecchio ora respirava stento e sentiva un sapore strano in bocca era dolciastro e ramoso e per un momento ne ebbe paura ma durò poco sputò nell'oceano e disse mangiate anche questo galanos e sognate di aver ucciso un uomo sapeva di essere sconfitto ormai definitivamente e senza rimedio e ritornò a poppa e vide che l'estremità scheggiata della barra riusciva ad entrare nel suo foro abbastanza da permettergli di pilotare la barca si mise il sacco sulle spalle e raddrizzò la direzione navigava senza fatica adesso e il vecchio non aveva pensieri né sensazioni di alcun genere ormai era al di là di tutto e pilotava la barca per ritornare al suo porto meglio e con più intelligenza che poteva durante la notte gli squali azzannarono la carcassa come si possono raccogliere le briciole sulla tavola il vecchio non vi badò e non badò a nulla fuori che al timone notò soltanto come navigava leggera e bene la barca adesso che non aveva quel gran peso accanto è una buona barca pensò è solida e non è danneggiata a parte la barra del timone questa è facile sostituirla sentì che era dentro la corrente ora e vide le luci dei villaggi rivieraschi lungo la spiaggia ora sapeva dov'era e non era nulla tornare a casa certo il vento è un nostro amico pensò poi soggiunse a volte è il gran mare coi nostri amici e i nostri nemici e il letto pensò il letto è mio amico soltanto il letto pensò il letto sarà una grande cosa è facile quando si è battuti pensò non avevo mai provato com'è facile e che cosa è stato a batterti pensò niente disse ad alta voce sono andato troppo a largo quando entrò nel piccolo porto le luci della terrazza erano spente e il vecchio sapeva che tutti erano a letto la brezza aveva continuato ad alzarsi e ora soffiava forte però il porto era tranquillo e il vecchio approdò nel piccolo tratto di pietra sotto gli scogli non c'era nessuno ad aiutarlo così issò la barca meglio che poté poi scese e la legò a uno scoglio disarmò l'albero e serrò la vela e la legò poi si mise in spalla l'albero e si avviò verso la salita fu allora che capì la profondità della sua stanchezza si fermò un momento e si voltò a guardare e vide alla luce delle lampade sulla strada la grande coda del pesce che sorgeva ritta dietro alla poppa della barca vide la bianca linea nuda della colonna vertebrale e la massa scura della testa col rostro sporgente e tutta la nudità in mezzo riprese la salita e giunto in cima cadde e rimase un momento disteso con l'albero sulla spalla cercò di alzarsi ma era troppo difficile e rimase lì seduto con l'albero sulla spalla e guardò la strada sull'altro lato della strada passò un gatto a fare gli affari suoi e il vecchio lo guardò poi guardò soltanto la strada alla fine posò l'albero a terra e si alzò raccolse l'albero e se lo mise in spalla e si avviò per la strada dovette sedere cinque volte prima di arrivare alla sua capanna nella capanna appoggiò l'albero alla parete nel buio trovò una bottiglia d'acqua e beve un sorso poi si distese sul letto si tirò la coperta sulle spalle e poi sulla schiena e sulle gambe e dormì a faccia sui giornali con le braccia tese e le mani girate dormiva ancora quando il ragazzo si affacciò alla porta la mattina il vento era così forte che le paranze non potevano uscire e il ragazzo aveva dormito fino a tardi e poi era venuto alla capanna del vecchio come faceva ogni mattina il ragazzo vide che il vecchio respirava e poi vide le mani del vecchio e si mise a piangere uscì senza far rumore per andare a prendere un po' di caffè e lungo tutta la strada continuò a piangere c'erano molti pescatori intorno alla barca intenti a guardare ciò che le era legato accanto e uno era nell'acqua con i calzoni arrotolati e misurava lo scheletro con un pezzo di lenza il ragazzo non scese vi era già stato e un pescatore custodiva la barca per lui come sta gridò un pescatore dorme dispose il ragazzo non gli importava che lo vedessero piangere non disturbatelo nessuno era lungo cinque metri e mezzo dal muso alla coda gridò il pescatore che lo stava misurando lo credo disse il ragazzo andò alla terrazza e chiese una lattina di caffè caldo e con molto latte e zucchero nient'altro no più tardi vedrò che cosa può mangiare che pesce disse il proprietario non ho mai visto un pesce simile erano due bei pesci anche quelli che hai preso tu ieri accidenti ai miei pesci disse il ragazzo e ricominciò a piangere vuoi bere qualcosa chiese il proprietario no disse il ragazzo di che non disturbino santiago poi ritorno digli che mi dispiace grazie disse il ragazzo il ragazzo portò la lattina di caffè caldo nella capanna del vecchio e gli sedette accanto aspettando che si svegliasse una volta parve che stesse per svegliarsi ma era ripiombato in un sonno pesante e il ragazzo aveva attraversato la strada a farsi prestare un po' di legna per scaldare il caffè finalmente il vecchio si svegliò resta sdraiato disse il ragazzo bevi questo gli versò un po' di caffè in un bicchiere il vecchio lo prese e lo beve mi hanno battuto Manolin disse mi hanno proprio battuto ma non ti ha battuto lui il pesce no davvero è stato dopo Pedrico sta pensando alla barca e all'attrezzatura che cosa vuoi fare della testa di a Pedrico che la tagli e la doperi nelle trappole e la spada tienila tu se la vuoi certo che la voglio disse il ragazzo ora dobbiamo pensare a fare i nostri piani per tutto il resto sono venuti a cercarmi certo col guardiacoste e gli aeroplani l'oceano è molto grande è una barca è piccola è difficile da vedere disse il vecchio si accorse di com'era piacevole avere qualcuno con cui parlare invece di parlare soltanto a se stesso e al mare mi sei mancato disse che cosa hai preso uno il primo giorno uno il secondo e due il terzo bravo ora torniamo a pescare insieme no io non ho fortuna non ho più fortuna al diavolo la fortuna disse il ragazzo la fortuna te la porto io che cosa diranno i tuoi non me ne importa ieri ne ho presi due ma ora andremo a pesca insieme perché ho ancora molto da imparare dobbiamo procurarci una buona lancia e tenerla sempre a bordo si può fare la lama con un foglio di balestra di una vecchia ford possiamo farla affilare da guanabacoa deve essere affilata e non temprata in modo che non si rompa il mio coltello si è rotto mi procurerò farò un altro coltello e farò affilare la balestra quanti giorni durerà la brisa forte forse tre forse di più sarà tutto in ordine disse il ragazzo tu mettiti a posto le mani vecchio so come curarle questa notte ho sputato una cosa strana e ho sentito che mi sia rotto qualcosa nel petto mettiti a posto anche quello disse il ragazzo sdraiati vecchio che ora ti porto la camicia pulita e qualcosa da mangiare porta tutti i giornali dei giorni che non c'ero disse il vecchio devi metterti a posto in fretta perché ho ancora molto da imparare e tu puoi insegnarmi tutto sei stato male parecchio disse il vecchio ti porterò il cibo e i giornali disse il ragazzo riposati vecchio ti porterò della roba dalla farmacia per le mani non dimenticarti di dire a Pedrico che la testa è sua no mi ricorderò quando il ragazzo uscì dalla porta e scese la strada rocciosa di coralli consunti cominciò a piangere quel pomeriggio arrivò una comitiva di turisti alla terrazza e mentre guardavano nell'acqua tra le latte vuote di birra e le barracuda smorte una donna vide una lunga grande spina dorsale bianca con una coda enorme e si alzava ed ondolava con la corrente mentre il vento di levante sollevava un gran mare pesante fuori dell'ingresso al porto che cos'è chiese il cameriere indicando la lunga colonna vertebrale del grande pesce ormai spazzatura che aspettava di essere portata via dalla corrente tiburon disse il cameriere pesce cane voleva spiegare cos'era successo non sapevo che i pescecani avessero la coda così bella così ben fatta neanch'io rispose il suo compagno in cima alla strada nella capanna il vecchio si era riaddormentato dormiva ancora bocconi e il ragazzo gli sedeva accanto e lo guardava il vecchio sognava ancora leoni che si è